Buonasera a tutti. Chiedo al segretario se c'è il numero legale. Dichiaro aperta la seduta del Consiglio Comunale. Nomino scusatori consiglieri Francesco e Giuseppe Perrone. Risultano assenti i consiglieri Emanuele Loperfido e Sandro del Santo. Arriveranno in ritardo il consigliere Giovanni Delben e il consigliere Giulia Bevilacqua. Comunico in apertura che la consigliera Daniello è uscita dal gruppo PD ed è entrata nel gruppo misto. Allora come indicato nella convocazione che vi è stata trasmessa i lavori inizieranno con l'esame della deliberazione di surroga del consigliere Zille con il consigliere Vito Palmisano. Pertanto il primo oggetto all'ordine del giorno è l'esame della deliberazione numero 3 2014 surroga il consigliere dimissionario signor Bruno Zille con il signor Vito Palmisano. Vi leggo vi leggo un passaggio della deliberazione preso atto che nella lista di appartenenza del consigliere Bruno Zille denominata Vivo Pordenone il primo dei non eletti risulta essere il signor Vito Palmisano il quale ha riportato all'amministrativa del 15-16 maggio e successivo turno di balottaggio del 29-30 maggio 2011 la cifra individuale di 913 voti come risulta dal verbale delle operazioni dell'ufficio elettorale centrale. Visto questo dovremmo procedere adesso alla deliberazione avente il seguente oggetto quello di procedere alla surroga come vi ho detto nonché di convalidare conseguentemente l'elezione del consigliere signor Vito Palmisano dando espressamente atto che per lo stesso non risultano sussistere cause di ineleggibilità o incompatibilità alla carica. Bene, pertanto dichiaro aperta la discussione non c'è nessuno iscritto a parlare, pertanto dichiaro chiuso la discussione chiedo ovviamente perché è obbligatorio il secondo intervento nessuno iscritto, pertanto dichiaro chiuso la discussione chiedo se qualcuno vuole iscriversi per le dichrazioni di voto nessuno, bene bene, allora pongo in votazione la deliberazione avente il seguente oggetto proposta numero 3 del 2014 surroga del consigliere di missionario signor Bruno Zille con il signor Vito Palmisano dichiaro aperte le operazioni di voto dichiaro chiuso le operazioni di voto l'esito della votazione è il seguente presenti 32, votanti 31, maggioranza 16 favorevoli 31, contrari nessuno, astenuti nessuno la deliberazione è stata approvata pongo adesso i voti la sua immediata eseguibilità dichiaro aperte le votazioni dichiaro chiuso le votazioni esito della votazione è il seguente presenti 32, votanti 29, maggioranza 21 favorevoli 29, contrari nessuno, astenuti nessuno comunico che l'atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile invito il consigliere Palmisano ad entrare grazie a tutti grazie 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 proseguiamo con l'ordine dei lavori passiamo ora alla presentazione dei bilanci di previsione 2014 bilancio plurinale 2014-2016 do la parola all'assessore Mazzer prego assessore sì grazie presidente innanzitutto se potessimo cominciamo con l'abbassare le luci così poi si vedono meglio le slide di presentazione io mi sono dato anche un tempo quindi spero di essere abbastanza breve nell'illustrazione oggi sapete che c'è l'illustrazione del bilancio mentre l'approvazione del bilancio ci sarà il 10 di marzo lunedì 10 marzo avremo di fatto 15 giorni per effettuare le varie commissioni per passare in circoscrizioni ci saranno ancora degli incontri con le parti sociali che interverranno in questi 15 giorni e quindi 15 giorni di concertazione per arrivare poi lo strumento al provvedimento definitivo diciamo di approvazione che avverrà il 10 marzo prossimo vi dico la verità quando abbiamo iniziato i lavori di presentazione di questa bozza che poi è stata approvata dalla giunta era il mese di dicembre quindi c'è un periodo tecnico dovuto diciamo ad alcune fasi concertative e anche conoscitive e poi agli aspetti che riguardano i pareri dei revisori che hanno bisogno di un tempo congruo prima che il bilancio di previsione possa essere presentato i revisori hanno dato il loro parere e verrà messo a disposizione già in questa serata a dei consiglieri così come le slide poi verranno distribuite a tutti i consiglieri partiamo quando siamo partiti avevamo alcuni obiettivi e cerchiamo di riassumere in maniera molto breve il primo obiettivo credo che sia abbastanza normale diciamo non gravare sui cittadini ulteriormente quindi per non gravare sui cittadini ulteriormente bisogna ridurre le spese anche perché avevamo la certezza di minori entrate che derivano da minori trasferimenti da parte della regione e minori entrate da dividendi di partecipate in particolare i dividendi ATAP si sono ridotti anche in funzione alla gara che tra poco quell'azienda dovrà sostenere quindi la possibilità di mantenerla nelle capacità di poter concorrere anche per la gara che sarà prossima avventura ovviamente abbiamo cercato di consentire anche nella riduzione nei tagli di spesa di cogliere tutte le opportunità che il territorio ci può offrire per essere pronti anche a raccogliere le opportunità proprio di una ripresa che ancora non si vede ma che noi speriamo possa essere possa coinvolgere anche questo territorio e questo territorio non si deve trovare impreparato a questo naturalmente per marcare questo tipo di attenzione abbiamo in particolare dato alcune risorse in particolare alle politiche giovanili per noi molto importante mantenere questo territorio anche attrattivo verso i giovani ci siamo molto occupati degli anziani ci siamo molto occupati dei pensionati ci siamo molto occupati di quelle persone forse sui giovani dobbiamo investire un po' di più a costo anche di tagliare su altri su altri settori di spesa per garantire proprio lì nella parte più diciamo più difficile da affrontare del paese del territorio quelle che sono le opportunità di ripresa un bilancio di previsione una volta era una specie di vangelo che si approvava all'inizio dell'anno e poi si andava a verificare cosa succedeva alla fine oggi lo consideriamo uno strumento flessibile di programmazione flessibile perché in tempi dobbiamo essere pronti ad accogliere appunto le opportunità che ci vengono anche durante l'anno in corso le opportunità che ci determinano anche alcune razionalizzazioni di spesa che magari non sono contenute in questo bilancio ma si possono fare ulteriormente semplificazioni dal punto di vista burocratico e anche sinergie di servizi con gli altri comuni ne abbiamo parlato ne abbiamo sentito parlare molto sulla stampa pur non essendo contenute sono quelli che sono gli obiettivi che ci diamo strategici come amministrazione comunale quindi la semplificazione e le sinergie e risparmi di scala l'anno scorso il bilancio l'abbiamo approvato a fine giugno e ne abbiamo pagato alcune conseguenze ne abbiamo pagato alcune conseguenze perché capite che avere un anno di programmazione un anno di sviluppo di attività può dare determinati risultati non avere quest'anno a disposizione anche per una struttura complessa di 500 dipendenti come il comune di Pordenone evidentemente può creare delle difficoltà di operazione quindi per noi oggi approvarlo in tempi brevi è una risorsa in più che mettiamo a disposizione di questo bilancio abbattimento di costi amministrativi provate a immaginare semplicemente agire in dodicesimi per i primi sei mesi dell'anno in termini semplicemente di provvedimenti amministrativi sono sei volte tanto quelli che avremmo potuto prendere se avessimo approvato un bilancio all'inizio dell'anno tutti gli impegni di spesa che vengono presi mese per mese ma facciamo un altro esempio interventi manutentivi interventi manutentivi non possono essere legati a un dodicesimo devono essere legati alla razionalità di quel tipo di intervento manutentivo avere a disposizione l'intera risorsa e poterla impegnare già all'inizio dell'anno ovviamente è una ricchezza che dobbiamo in qualche maniera sfruttare per questo pur essendo in qualche maniera abbiamo qualche difficoltà qualche dubbio interpretativo ancora su alcune materie tributarie che ancora il governo sta trattando mi riferisco in particolare sulla questione che riguarda la Tasi si sta parlando ancora di detrazioni ulteriori sulla Tasi noi abbiamo preferito comunque approvare il bilancio e prendere atto di queste variazioni legislative anche in fasi successive e aggiornarlo questo bilancio vi ricordo che avremo già la rendicontazione sul 2013 nel mese di aprile avremo una prima verifica sugli obiettivi di bilancio a settembre e l'ultima verifica a novembre quindi abbiamo altre tre occasioni ordinarie diciamo di variazioni di bilancio senza contare quelle straordinarie che ovviamente se fossero necessarie le utilizzeremo mi parlo un pochettino degli obiettivi strategici li ho divisi in quelli che sono l'attività di programmazione dell'ente le poche attività di investimento che possiamo permetterci sul patto visto la difficoltà del patto di stabilità e quelle riorganizzative e gli obiettivi poi dei vari settori noi siamo in un periodo in cui gli investimenti sono ridotti al minimo il patto in qualche maniera ci costringe a non poter utilizzare tutte le risorse che potenzialmente potremmo avere per gli investimenti e di conseguenza cosa facciamo utilizziamo al meglio questo periodo di restrizione di investimenti per programmare al meglio quello che è il nostro territorio quindi vedete che i primi obiettivi sono obiettivi programmatori piano regolatore comunale entro l'anno piano della mobilità sostenibile piano energetico piano dello smog piano acustico sono tutti interventi che in qualche maniera ci possono dare la possibilità di valutare meglio la priorità degli investimenti che faremo successivamente tra gli investimenti contiamo sul fatto che finalmente quest'anno possiamo dare avvio a quel piano integrativo di sviluppo urbano chiamato PISUS che comprende alcuni investimenti che riguardano il titolo secondo quindi opere pubbliche ma prevedono e lo vedremo dopo sulla parte corrente anche investimenti sulla spesa corrente appunto con contributi che vengono dati anche a privati associazioni una delle risorse che abbiamo a disposizione e che verrà in qualche maniera bilanciata come entrata e uscita e quindi annulla il patto di stabilità sarà sull'idrico messa in sicurezza del territorio dalle esondazioni in particolare l'ultima l'ultima emergenza ci è costata proprio in termini di utilizzo di motopompe di utilizzo di carburante sugli argi di Valle Noncello questo è l'intervento che di fatto dovrebbe dare una risposta anche a questa emergenza che stiamo alla quale stiamo sopperendo con la grande capacità di previsione degli eventi che i nostri uffici riescono ad avere però è chiaro che noi invece di avere dei trattori che dobbiamo mettere a disposizione 4-5 ore prima avere già lì delle pompe pronte risolveremo e metteremo in sicurezza il territorio nella maniera migliore e anche con costi più ridotti riduzione dei consumi energetici e aumento di rinnovabili quando si parla di investimenti si parla di investimenti che riducano la spesa corrente niente meglio che la riduzione dei consumi energetici e l'utilizzo di risorse di energie rinnovabili fotovoltaico e quant'altro riorganizzazione della modalità di gestione di casa serena ne abbiamo parlato in passato abbiamo già fatto alcune azioni in particolare sapete che il direttore di casa serena è il direttore dell'Umberto I adesso sono la stessa persona questo dovrebbe cominciare a produrre le prime sinergie di scala e magari permetterci di fare ulteriori passi durante quest'anno amministrativo ambito urbano 6.5 uno degli obiettivi la città dell'educazione ma questo potremmo spiegarlo ancora meglio magari in fase di commissione ecco tra quelli strategici abbiamo dovuto mettere anche giustamente l'87esima adunata nazionale degli alpini mi sarei chiesto come avremmo potuto sopperire ad alcune spese che cominciamo a sostenere tra poco se non avessimo potuto approvare il bilancio in tempo utile l'apertura della sede espositiva di Palazzo Spelladi che per noi significa molte cose Palazzo Spelladi per tutti sapete che è Palazzo Cevolini spostare lì quelle mostre quelle attività che facevamo in Parco 2 Parco 2 significa se potessimo avere degli spazi finanziari ulteriori durante l'anno nel patto di stabilità che magari ci mette a disposizione la regione che deve distribuire questi ulteriori 20 miliardi ecco che 300 mila euro li utilizzeremo senz'altro per la ristrutturazione di Parco 2 prego 20 milioni pardon 20 milioni ha ragione li utilizzeremo su Parco 2 proprio per unificare tutti i servizi del territorio anche qua lì si parla di sinergia organizzativa oggi quando abbiamo un progetto deve ottenere il parere dell'ambiente poi quello dei vigili dopo quello della mobilità noi pensiamo che un unico settore possa contenere tutti i pareri e quindi ridurre le attività burocratiche che abbiamo nell'ente riorganizzare come dice il punto successivo e razionalizzare la struttura organizzativa dell'ente anche puntando sui servizi condivisi con la famosa città dei 100 mila abitanti quindi cominciare a organizzare i nostri servizi anche con gli altri comuni limitrofi tutto questo con lo scopo esclusivo di produrre di risparmi produrre delle risorse in risparmio che possano essere reinvestite sul territorio questa è la prima slide che riguarda proprio quello che sarà numericamente il nuovo bilancio di previsione io provo a definirvelo anche proprio come voci di spesa avanzo di amministrazione 513 sulle entrate l'avanzo lo utilizzeremo soprattutto come fondo di svalutazione crediti andremo a una nuova contabilità nel 2015 abbiamo bisogno di incrementare quelle che sono le risorse che ci obbliga poi il legislatore comunque a incrementare ci prepariamo già con un avanzo di amministrazione che ci è consentito 513 mila euro questo è quello che ci serve ovviamente questo è un avanzo che può essere utilizzato a patto di stabilità nullo perché c'è una previsione di entrata che va poi alimentare un fondo in uscita quindi non ha effetti sul patto entrate tributarie 32.885 vedremo che c'è un incremento importante rispetto all'anno precedente e poi ne parleremo in dettaglio 42 mila entrate 42 milioni entrate da trasferimenti questi trasferimenti quali sono le voci principali di questi trasferimenti beh 17 milioni della regione di cui 5 sono nella partita di giro con lo Stato per l'Imu 11 che è il fondo sociale che ci mette a disposizione per le attività dell'ambito 1,6 per esempio il contratto unico queste sono le principali voci di spesa dei trasferimenti le extra tributarie 20 milioni e lì ovviamente scontiamo quelle che sono alcune entrate in meno vi dicevo prima le entrate che derivano dal i dividendi di ATAP e di GEA in particolare l'anno scorso avevamo anche quel dividendo straordinario di GEA determinato da rimborso canone e fognatura alienazione e trasferimenti dicevo poi accensione prestiti ecco questi sono questi 3 milioni sono riferito in particolare in larga misura al PISUS cioè il fatto che possiamo investire in PISUS prevede anche un cofinanziamento e questo è quello che viene riportato nell'accensione prestiti di quest'anno totale sono 115 milioni poi ci sono i servizi conto terzi cosa sono i servizi conto terzi i servizi conto terzi sono per esempio le elezioni europee noi abbiamo una spesa che ha un'entrata perché un'uscita perché spendiamo dei soldi delle risorse per fare le elezioni ma abbiamo anche un'entrata una specie di partita di giro per esempio anche i contributi che noi versiamo per conto dei dipendenti rientra in questa partita di giro e va a comporre questi 8 milioni così come le cauzioni che introduttiamo per le opere pubbliche quindi il totale di bilancio diciamo tra spesa corrente investimenti e accensione prestiti è di 124 milioni di euro spese correnti 86 milioni 938 di cui più investimenti per 19 milioni 13 milioni sono investimenti di lavori pubblici 5 milioni sono quegli investimenti che noi utilizziamo diciamo che il ragioniere utilizza per acquistare botte che quindi quando il denaro è fermo possa avere una resa anche se la resa ovviamente rispetto agli anni precedenti è molto diminuita i 13 milioni sono solo teorici perché vedremo dopo nell'equilibrio negli spazi del patto di stabilità non abbiamo a disposizione tutte le risorse che noi vorremmo utilizzare nel piano triennale delle opere pubbliche totale anche qua sono 124 223 e quindi avremo un equilibrio nel bilancio andiamo a una classificazione economica e qui cominciamo a verificare appunto le differenze vedete qui 2013 29 milioni 646 2014 32 milioni 885 sono le entrate tributarie vedete che ne abbiamo 3 milioni 239 in più da cosa derivano derivano ovviamente dal fatto che noi non avremmo più e lo vedremo più avanti più quel trasferimento che ci ha fatto nel 2013 lo Stato per coprire l'Imu sulla prima casa nel 2014 quel trasferimento statale non ci sarà più cosa ne farà lo Stato di questo trasferimento ovviamente che non ci sarà più non è dato a sapere perché appartiene a un altro livello di decisione trasferimenti da entrate correnti dello Stato e della Regione apparentemente vedete che c'è un aumento di 521 mila euro però dobbiamo tenere presente che in questi 521 lo faccio con la successiva slide che forse si vede ecco vedete rispetto a il trasferimento dei entrate correnti dello Stato e della Regione apparentemente avevamo nella slide precedente un aumento dell'entrata vedete 42 poi se andiamo alla slide successiva abbiamo 41 229 perché perché abbiamo un trasferimento straordinario che è quello del PISUS per 1.763 se io lo contabilizzo all'interno in positivo ovviamente c'è un aumento delle entrate se essendo straordinario lo tolgo da tutto questo vedete che la diminuzione dei trasferimenti è pari a 1.242.000 così come le entrate extra tributarie c'è una diminuzione di 1.477.000 andremo a vedere poi nel dettaglio avanzo dell'amministrazione applicato 513 questo è un dato positivo vedete che rispetto alla programmazione fatta negli anni precedenti noi abbiamo un avanzo più basso che utilizziamo il che significa che la nostra capacità di programmazione in qualche maniera è migliorata vediamo sul fonte della spesa il personale 71.000 euro in meno ma poi c'è un dato che assommato al personale interrinale ci dà un dato molto diverso acquisto di materiale di consumo 40.000 euro in meno prestazioni di servizi legate al PISUS 100.000 euro da un aumento di 91 utilizzo bene i terzi meno 72 trasferimenti meno 5.72 tutte le voci sono poi in meno ci sono anche voci più importanti in meno per esempio interessi passivi su finanziamenti meno 355 significa che noi stiamo pagando meno interessi quindi un dato positivo fondo svalutazione credit questo l'abbiamo aumentato questo lo troveremo poi nei tributi in particolare nella Tari che è la tassa che sostituisce la Tares quest'anno e vedrete che lì lo sfondo il fondo diciamo per gli insoluti l'abbiamo dovuto aumentare anche perché ci viene chiesto una garanzia che non ci sia soltanto un'entrata teorica ma anche un'entrata reale e sappiamo che ovviamente ci sono anche persone che non pagano qualcuno per necessità e qualcuno per altri motivi il nostro obiettivo è ridurre al minimo questo dato nel corso del 2014 anche le quote di capitale mutui sono diminuite notevolmente e uno degli elementi che ci ha permesso poi di pareggiare il bilancio proprio è la riduzione dei mutui l'indebitamento dell'ente si è ridotto vedete da 10 milioni a 9 milioni questa è la quota che noi rimborsiamo di mutui e interessi su opere pubbliche c'è un ripristino del fondo di riserva questo fondo di riserva di 100 mila euro è riferito all'assistato 2013 noi siamo partiti con 300 eventi all'inizio ovviamente durante l'anno gradualmente diminuendo il tempo che ci vedeva arrivare a fine anno e di fatto abbiamo ridotto quel fondo lì perché ovviamente gli imprevisti in un tempo ridotto potevano essere anche ridotti insomma in totale quindi noi abbiamo una entrata economica depurata dei finanziamenti PISUS dell'imposta tasi quindi dei minori trasferimenti dello Stato sia nella parte entrata abbiamo una diminuzione di entrate di 1,699 in meno sia nelle parte delle uscite quindi delle spese quindi abbiamo paraggiato il bilancio spendendo in meno 1.699.000 euro e qui lo vediamo in un grafico che determina proprio com'è l'andamento della spesa del 2004 al 2014 vedete che gli ultimi incrementi di spesa sono legati soprattutto perché nella quota spese noi abbiamo anche la quota di rimborso allo Stato delle quote di tributo che introitavamo per conto dello Stato stesso se non avessimo queste noi avremmo un andamento della spesa lo vediamo sulle slide successive vedete che abbiamo tolto lo straordinario della PISUS e l'extragetito IMU che abbiamo restituito allo Stato e che continuiamo a restituire tutti gli anni allo Stato e vedete come l'andamento della spesa si è riportata nel 2014 a livelli che erano pagoraconabili al 2004 deflazionato un po' di più naturalmente quello non deflazionato la stessa cosa la vediamo qua qua abbiamo escluso quello che è l'importo dell'ambito urbano degli altri comuni cioè la quota dell'ambito che diciamo è contenuta nel nostro bilancio se escludessimo anche questo vedete che la quota della spesa è diminuita ulteriormente quindi noi abbiamo avuto un incremento di risorse che sono andate all'ambito in questi anni e sono contenute nel nostro bilancio ma la spesa esclusi questi fondi diciamo è diminuita per quel che riguarda le altre attività del comune stesso questi sono i budget di settore che si possono riepilogare in tutte diminuzioni per quel che riguarda la vigilanza gli affari istituzionali i servizi di direzione i saperi e i servizi alla persona le attività culturali ricreative sportive l'ambiente mobilità registriamo due più uno nell'assetto territoriale e uno nelle finanze bilancio e programmazione se andiamo a vedere però qui ci sono il fondo di svalutazione che avrete contenuti poi nei tributi in particolare nella Tari il fondo di riserva che abbiamo ripristinato e soprattutto il maggior trasferimento allo stato di extragettito IMU se non avessimo questa voce come non avessimo la voce del PISUS nella parte investimenti nell'assetto territoriale ecco che di fatto avremo una diminuzione anche in queste voci in misura abbastanza importante quindi di fatto diminuendo anche lì la percentuale rispetto all'anno precedente oltre che il valore assoluto vi dicevo prima abbiamo fatto di tutto e ci siamo riusciti per ridurre quelli che sono i tributi che conoscevamo e sto parlando della tassa rifiuti sto parlando dell'IMU sulla seconda abitazione e sugli altri fabbricati dell'addizionale IRPEF oltre che però vedete che le entrate tributarie sono aumentate sono aumentate di 3 milioni 239 proprio per l'effetto TASI 6 milioni e 6 ex IMU trasferimento che non ci arriva più noi dobbiamo imporre la TASI e di conseguenza abbiamo un aumento delle entrate tributarie se non avessimo avuto questo ovviamente lo vedremo dopo avremo una diminuzione delle entrate tributarie maggiori trasferimenti PISUS anche sui trasferimenti sulle entrate trasferimenti regioni e altri enti Stato abbiamo una riduzione del 3% se togliamo i maggiori trasferimenti del PISUS che sono straordinari lo faremo solo un anno queste fece solo l'extra tributare vi dicevo prima 797 mila euro in meno da GEA che abbiamo utilizzato l'anno scorso per rimborsi fognatura 968 mila euro di dividenti ATAP in meno che registriamo nelle entrate tributarie quindi con una diminuzione del 6,84% entrate in dettaglio vediamo tutti i tributi che abbiamo nel nostro comune cosa abbiamo ICI che dicevamo prima IMU perché l'ICI nel 2010 c'era ancora l'ICI 2013 entrate IMU 17 milioni 540 2014 15 milioni 150 c'è un dato però che va verificato rispetto all'assestamento 2013 perché ancora presente nell'assestamento 2013 avevamo la seconda rata dell'IMU che non l'abbiamo potuta togliere neanche nell'ultimo assestamento perché di fatto non c'è arrivata dallo Stato e neanche la norma avevamo a disposizione allora e quindi l'abbiamo dovuta registrare al netto di questa noi avremo 15 milioni contro 15 milioni 150 quindi di fatto noi l'IMU mantenendo anche l'aliquota allo 0,76 non abbiamo un aumento abbiamo un aumento zero addizionale IRPEF non l'aumentiamo aumento zero imposta pubblicità qua graficamente sembrerebbe che ci fossero due aumenti sia sull'imposta pubblicità sia sui diritti sulle pubbliche afflissioni noi non abbiamo aumentato neanche qua le aliquote vedete l'andamento del 2012 andamento imposta pubblicità 2012 1 milione 105 2013 assestato 980 un calo cerchiamo di provvedere nel 2014 anche con un messaggio forse di di speranza un aumento che sia tra il 2012 e il 2013 1,050 quindi l'aumento non è dovuto ad aumenti tarifari ma all'auspicio che ci sia un fatturato maggiore anche sulle pubbliche affissioni lo stesso ragionamento 141 2012 120 2013 scusate che torno indietro che mi è scappato sì con questo sì con questo questo torno indietro eccolo qua dicevo 130 nel 2014 a metà fra questi due dati con un aumento di fatturato ma non con un aumento di tariffe le tariffe sono rimaste uguali la stessa cosa su Tosa per rimasta uguale l'addizionale ormai non c'è più la Tarsu la Tarsu registra una diminuzione anche dovuta onestamente al fatto che lo Stato non chiede più i 30 centesimi di 999 mila euro pari all'11% poi nel dettaglio vedremo quali sono le diminuzioni che riguardano la Tarsu ovviamente qui c'è il dato Tasi Tasi non c'era negli anni precedenti minor trasferimento dello Stato per IMU prima casa 6 milioni e mezzo entrata Tasi 6 milioni e 6 come? uguale questi sono le slide invece che fanno vedere quelli che sono le entrate tributarie poste in un diagramma insomma non cambia niente i 32 milioni vedete questo è il 2012 2013 2014 l'aumento dell'imposizione tributaria dovuta alla Tasi anche qui leggiamo le entrate dei trasferimenti li leggiamo però depurati ovviamente questa è la Tasi per quel che riguarda i trasferimenti vediamo l'incremento che è dovuto solo a Pisus altrimenti avremo una riduzione di trasferimenti per quel che riguarda le entrate extra tributarie vediamo la diminuzione dovuta ai dividendi ATAP in particolare quell'IGEA con il prossimo bilancio noi approveremo un regolamento che è di fatto si chiama regolamento dell'imposta unica comunale conterrà tutti i tributi del comune li riassume tutti in un unico regolamento anche se sono tributi diversi alcuni li conosciamo l'IMU è rimasta quella di un tempo noi abbiamo l'aliquota lo 0,76 è tra i comuni capoluogo in Italia l'aliquota più bassa eravamo in testa nelle classifiche perché nessuno è sceso sotto lo 0,76 cos'è la novità di quest'anno la novità di quest'anno che intendiamo applicare all'IMU un'ulteriore detrazione che riguarda i comodati comodati gratuiti per parentelle di primo gadro padre e figlio pensiamo che sia opportuno che sia corretto che sia giusto dare una detrazione in maniera che queste persone possano pagare la propria seconda casa che non ha una rendita non al 7,6 ma al 4,6 Tari dopo lo spieghiamo eh sì 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 c'è una possiamo anche sì lei dice potremmo metterla a 0 perché la prima casa è a 0 adesso e quindi noi dovremmo portarla a 0 ne tratteremo in commissione no in quel caso non si pagherebbe Tari la Tari è figlia della Tares la Tares l'anno scorso è stato il tributo che in qualche maniera più ha inciso sulla comunità portenonese in particolare su alcune categorie di commercianti e negli incontri che abbiamo avuto con quelle categorie di commercianti ci siamo presi in impegno ci siamo presi in impegno di creare un fondo di solidarietà che andasse incontro a questi aumenti che sono stati così repentini e di percentuali molto elevate quindi 250.000 euro è il fondo che mettiamo a disposizione per le detrazioni per alcune categorie di commercianti quelle maggiormente penalizzate dagli aumenti 120.000 euro invece è una riduzione che ci consente il piano finanziario il piano finanziario di quest'anno che pur avendo un incremento dei costi per quel che riguarda il fondo sugli insoluti diciamo chiamiamolo così ci ha per me ci ha costretto in qualche maniera a razionalizzare un timino vari aspetti che riguardavano i costi di questo piano finanziario ci siamo riusciti abbiamo pur in presenza di quel fondo straordinario avuto una riduzione di 120.000 euro qua devo dire la verità il lavoro importante che ha fatto l'assessore Conficoni insieme con la GEA oggi ci permette di dire che c'è una riduzione anche generalizzata oltre che una riduzione specifica per alcune categorie Tasi Tasi è l'imposta diciamo che è nuova quest'anno determinata come vi ho detto da una mancanza di trasferimenti sull'Imu prima casa che ci sono stati garantiti nel 2013 e non ci verranno garantiti nel 2014 su questa e dopo la vedremo nel dettaglio con alcuni esempi alcuni ragionamenti abbiamo fatto come amministrazione in particolare per alcune categorie e vorremmo lì almeno dare un segnale diamo un segnale soprattutto a quelli che abitano in affitto e quindi che sono categorie da considerarsi un po' più in difficoltà rispetto a chi ha una casa di proprietà non sempre è così però lo facciamo con detrazioni che sembrano basse in questa in questa slide ma vedrete che ottengono un risultato importante quando si si applicherà il 10% che si voleva applicare gli inquilini e lo facciamo su appartamenti su residenze che hanno rendite inferiori ad 800 euro in maniera che le ville le escludiamo da tutto questo insomma detrazioni di 25 euro che facciamo anche al proprietario per la prima casa ti sembra giusto che se noi sulla prima casa all'inquilino gli diamo la possibilità di avere 25 euro alla stessa stregua trattiamo anche il proprietario e in più un altro segnale lo diamo sulle attività produttive non tassando le aree produttive perché credo che soprattutto in questo territorio dove ci sono queste difficoltà delle nostre imprese almeno questo segnale lo dovevamo dare e lo diamo sul tributo nuovo che prima non c'era facciamo alcuni esempi abitazione concessa incomodato gratuito IMU la rendita 750 euro annuali 2013 col 7,6 per mille questa abitazione al proprietario costava 957 euro di IMU con la riduzione se la dà il figlio o il figlio la dà il padre e c'è una convenzione quindi viene data incomodato gratuito con il 4,6 per mille che noi gli applichiamo il risparmio che questo proprietario ottiene è di 378 euro pari al 39% rispetto all'anno precedente questo risultato di questo tipo di riduzione noi non potevamo andare più sotto del 4,6 perché l'IMU sulla prima casa prevede che si possono fare in aumento in riduzione si può andare in aumento in riduzione di 3 punti quindi si può andare dal 7,6 al meno 3 punti 4,6 l'aliquotamino in mare abbiamo applicato sulla tasi invece la tasi è dicevo questa tassa nuova vediamo che effetto ha sul proprietario e poi sull'inquilino su chi ha il conduttore che paga l'affitto abitazione principale rendita 750 euro abbiamo cercato di farle alla stessa stregua insomma in maniera che si vedesse anche le differenze 157 l'importo dell'1,25 per mille che è la tariffa che noi intendiamo proporre detrazione 25 euro il proprietario di questa prima casa della sua prima paga 132 euro se questa fosse la seconda casa che ha dato in affitto la rendita è 750 l'importo non è 157 ma il 90% quindi 141 e questo è a carico del proprietario l'inquilino dovrebbe pagarne il 10% 15 euro gli abbiamo fatto una detrazione di 25 e non paga niente quindi vedete che abbiamo messo in salvaguardia un certo numero di abitazioni fino a una rendita diciamo normale definisco così insomma non per le super abitazioni vediamo la tariffa invece la tariffa è quella che queste sono le categorie la 22 la 23 la 24 la 27 è che l'anno scorso hanno avuto gli aumenti percentuali più elevati guardate che aumenti hanno avuto 2,65 2,19 161 e questo perché noi abbiamo applicato il decreto ministeriale e perché ovviamente invece che è l'85% abbiamo intruittato il 100% per la prima volta perché prima queste attività forse riuscivano a pagare un po' meno di quanto avrebbero prodotto vabbè io sai che sono molto un po' meno dico io questo dico in maniera bonaria ovviamente pagando in base anche alla produzione dei rifuti hanno pagato di più tanto di più e lo hanno pagato in maniera ripentina questo aumento allora noi diciamo in questo caso cerchiamo di essere solidali con queste categorie sì lo siamo abbiamo messo 250.000 euro a disposizione che va a coprire di fatto il 2014 ma serve a coprire anche quello che stanno pagando a rate del 2013 quanto avremo di diminuzione vedete un ristorante di 80 metri mettiamo una una trattoria ho messo 80 metri quadri pagherebbe 1500 euro pagava 1500 euro nel 2013 la differenza in percentuale rispetto alla tarsia era un più 265 l'importo del 2014 senza la sovvenzione sarebbe di 1296 con la sovvenzione paga 840 rispetto a uno a 1500 quindi una diminuzione di 465 rispetto a questo dato qua ma rispetto al 2013 questo dato qua che è 35% va letto quasi come il 50% è il 44 in sostanza se fate la differenza tra questo dato e questo dato vedete che la differenza tra il 2013 e il 2014 è il 44% in meno perché questa percentuale è riferita a quanto pagava qui rispetto a quanto paga con la sovvenzione è poco significativo mi scuso io per questa slide che magari ho fatto un esempio si può fare anche al metro quadrato la percentuale rimangono uguali anche su 100 metri quadrati anche su 200 metri quadrati ho fatto un esempio ma è solo un esempio le percentuali restano uguali di riduzione le abbiamo fatto anche sulle le percentuali sono uguali la riduzione è uguale l'ho fatto anche sulla categoria 23 vedete la percentuale è 35 con la sovvenzione in meno ma la differenza fra quanto pagano nel 2014 e quanto pagavano nel 2013 è di circa il 44% anche in questo caso però dovete tenere presente che l'anno scorso l'hanno pagato tutto l'importo e quindi noi dobbiamo vedere questa diminuzione non in un anno solo ma che comprenda un biennio e quindi non potevamo mettere gli importi su un anno che era già passato contabilmente li abbiamo messi solo in un anno 2014 che adesse coprire di fatto tutti e due la stessa cosa vale per i bar caffè e pasticcerie e per gli ortofrutta questa è la diminuzione che abbiamo ottenuto ma riducendo di fatto anche se di poco un pochettino gli importi del piano finanziario aumentando i metri quadrati perché abbiamo inserito ulteriori metri quadrati di un ulteriore ruolo ecco che vedete che anche diciamo che le categorie domestiche un appartamento di tre persone di 80 metri quadrati che pagava nel 2013 211 pagherà nel 2014 180 e quindi con una differenza di 31 euro in meno quindi meno 14% poco significativo però una quota importante rispetto diciamo a quello che era successo l'anno precedente anche qui velocemente l'andamento della spesa corrente personale vedete che c'è una diminuzione piccola poi la vedremo nel dettaglio che sarà più grande prestazioni di servizi sempre in diminuzione questo piccolo aumento è determinato soprattutto dall'appalto calore che abbiamo avuto alcuni costi in più acquisto di beni sempre in diminuzione trasferimenti questo gap dal 2012 e il 2013 è determinato soprattutto dalle quote che riborsavamo allo Stato di tributi naturalmente mentre vedete che c'è la diminuzione dei trasferimenti sempre legati al PISOS come prima siccome le ripetiamo in qualche maniera cerco di andare veloce su questa parte oneri straordinari rimborsi canoni quello fatto l'anno scorso di 1.750.000 non lo avremo più gli oneri straordinari che abbiamo quest'anno sono legati soprattutto agli alpini e una quota parte dei rimborsi che non avevamo contabilizzato l'anno scorso e che contabilizzeremo quest'anno ecco qua c'era anche la dascalia che lo mostrava personale vedete la diminuzione di personale dal punto di vista del numero di persone questo che vedete in alto è il personale interinale siamo passati il personale interinale negli ultimi due anni avevamo 17 18 15 persone siamo passati a 7 cosa significa che non utilizziamo più questo strumento in maniera dissennata lo misuriamo soltanto per la vocazione per il quale è stato in qualche maniera istituito per situazioni di straordinarietà allora la straordinarietà non può perpetuarsi nel tempo anche perché genera delle aspettative ed è giusto che noi non mortifichiamo le persone e non ingeneriamo aspettative false quindi vedete che il numero di persone sta diminuendo in particolare anche il personale interinale lo vedremo più questi sono il personale dell'ambito e ci dà un contributo importante che solo questo aumenta che però è alimentato soprattutto al fondo sociale che ci trasferisce la regione vedete in termini economici 416.000 euro in meno 2014 rispetto 2013 e soprattutto la quota interinale che diminuisce di poco quella del personale perché abbiamo stabilizzato qualcuno questa è l'incidenza della spesa rapporto dipendenti con popolazione vedete sempre qua siamo in calo ecco rate di mutui anche qui vedete 2013 avevamo una quota del 14 151 siamo passati tra interessi al 13 e 64 nel 2014 queste due voci di spesa sono quelle che ci hanno aiutato di più quindi rate di mutui che sono diminuiti indebitamento dell'ente e minor spesa del personale quindi minore ingessatura del bilancio del comune ecco questo è un altro diagramma sempre sulla diminuazione dei mutui indicatori autonomia finanziaria vi invito a leggere questo dato qua sotto se è inferiore al 40% rileva condizioni di difficitarietà valutate tanto più positiva quanto più è elevato cioè in teoria l'autonomia finanziaria è un dato che testimonia la salute dell'ente è chiaro che noi però andiamo a imporre un tributo non lo nego quest'anno che si chiama Tasi che l'anno scorso non c'era che deriva sempre da questo minor trasferimento dello Stato sarebbe stato anche un tributo che avremmo imposto più volentieri se lo Stato questi 6 milioni e mezzo ci avesse detto come li ha restituiti alla nostra comunità autonomia positiva che aumenta pressione tributaria pro capita e vedete che aumenta se non avessimo la Tasi 507 andremo in diminuzione la Tasi ci porta 633 proviamoci siamo sempre in tempo anche qui trasferimenti regionali se non avessimo PISUS saremmo a 702 rispetto a 729 con PISUS siamo un poco di più 736 rigidità della spesa corrente vedete che sta diminuendo ovviamente a netto dell'extragettito ci sarebbe un dato leggermente diverso investimenti qui velocissimo perché di fatto il patto di stabilità ci consente pochi sogni in questo momento nel senso che noi abbiamo spazi finanziari oggi per 8 milioni 932 no abbiamo spese per 8 milioni 932 abbiamo spazi finanziari per 6 milioni 484 abbiamo di recente avuto la notizia che lo Stato 40 milioni che ha distribuito anche attraverso la regione Fiori di Venezia Giulia ci porta di 2 milioni di 2 milioni in più vedete però abbiamo sempre uno sbilancio di 355 mila euro quest'anno ovviamente avremo bisogno di questi 20 milioni che la regione deve ancora distribuire valutiamo quanto sarà questo trasferimento sicuramente rientriamo dal patto di stabilità vorremmo avere anche qualche risorsa per fare qualcos'altro e speriamo di averle questi sarebbero i finanziamenti diviso per entrate corrispondenti trasferimenti tipologia di finanziamento delle opere pubbliche alienazione di beni vedete loculi 600 mila altri immobili 740 mila devoluzione in mutui questi sarebbero parcheggi di fatto poi ve lo spieghiamo sul piano delle alienazioni sono la vendita di parcheggi e ci sono 4 punti in particolare dove noi intendiamo allineare parcheggi due sono i via Damiani e sono parcheggi pubblici di fatto in qualche maniera nascosti a pagamento e gratuiti di fatto li usano già adesso i privati è giusto che in qualche maniera se li comprino e mentre abbiamo in Largo San Giovanni dei parcheggi di cui pochi conoscono l'esistenza come parcheggi pubblici intendiamo allinearli e anche sotto il condominio Le Torri vorremmo allineare il totale delle entrate sarebbe 745 queste sono le opere divise per tipologia se mi dai gli appunti che mi sono preso scusate ma si lavora solo stretto opere stradali beh in particolare opere stradali sono 8 milioni ma la maggior parte è il Pisus no? Sport e spettacolo 303 è un intervento su Cinema Zero con un contributo protezione dell'ambiente un milione vi dicevo quello di Vallonuncello mi pare che solo lì sono 700 mila cimiteri cimiteri questo è un investimento importante dobbiamo farlo perché in particolare a Torre stiamo esaurendo i loculi e quindi abbiamo bisogno di fare un investimento per completare quello che è il quarto lotto dobbiamo avere un po' di loculi a Torre in previsione del 2014 e del 2015 soprattutto altri investimenti sono edilizia sanitaria in particolare Casa Serena dove ci sono dei contributi mandami avanti tu poi c'è tutto l'elenco degli investimenti vi ho detto che però sono libri dei sogni a parte le manutenzioni che cercheremo di fare perché appunto vincolati dal patto di stabilità in qualche maniera a parte Pisus e quei contributi che abbiamo sulle opere idrauliche e su Casa Serena credo di aver finito come? credo di averlo detto perché lo ripeto allora ITER per questi 15 giorni sappiate che questa è la bozza che noi presentiamo questa è soggetta ovviamente a questo consiglio comunale che è sovrano a decisioni ovviamente se ci sono variazioni però devono essere variazioni che vengono condivise con i revisori che ringrazio che sono là in fondo che ci devono dare un parere favorevole perché è vincolante il parere dei revisori per quel che riguarda tutte le variazioni che noi facciamo sul nostro bilancio di previsione e ovviamente deve avere un accordo della maggioranza dei componenti del consiglio comunale passeremo anche in circoscrizione per ottenere anche lì il parere vi ripeto mi risulta fino ad oggi che non ci sia nessun comune in Friuli in Venezia Giulia che abbia presentato il bilancio quindi siamo il primo possiamo considerarci coraggiosi pensiamo che questo passo sia un passo importante perché ci permette poi di lavorare in un anno per ottenere anche risultati migliori e quindi con uno strumento che è flessibile io vi rimando alle domande quando ci sarà la commissione il giorno 4 se non sbaglio la commissione non mi ricordo più che mi aiuta il giorno 4 ci sarà la commissione siamo favorevoli anche a fare degli incontri se qualcuno ci chiede per spiegare un attimino il bilancio per concordare tutta la trasparenza di questo bilancio e per chiarire tutti gli aspetti decisionali che ne sono derivati grazie grazie assessore mazzer per la chiara esposizione bene prima di iniziare i lavori il signor sindaco mi ha chiesto di poter fare una comunicazione prego signor sindaco il mio intervento è solo un flash per darvi qualche informazione in più sul caso Electrolux usiamo Electrolux in realtà voi lo sapete bene come icona di tutti i problemi relativi al lavoro e l'occupazione che abbiamo nella nostra città e nella nostra provincia andando nello specifico c'era una certa attesa per l'incontro che era previsto per il 17 febbraio in questo incontro l'incontro stesso avrebbe visto intorno al tavolo tre diciamo figure diverse l'azienda i sindacati e soprattutto il governo il governo è caduto e quindi l'incontro si è comunque tenuto il 17 ma solo tra le parti sindacali e l'azienda l'attesa qual era qualche informazione era anche filtrata che rispetto alle versioni precedenti delle richieste Electrolux lo stabilimento di Porcia veniva come si diceva usando il gergo veniva interessato da un piano industriale e quindi di fatto si dava un messaggio di non chiusura in pratica l'azienda ha seguito diciamo questo filone di investigazione ma ha presentato un lo dico in estrema sintesi un piano che prevede un calo di produzione da un milione centocinquantamila lavatrici a settecentocinquantamila nel 2017 con quattrocentotrentadue eccedenze calcolandole a tempo pieno vi ricordo che le persone che lavorano a Porcia sono 1160 fotografate al momento in cui questa vicenda si è innescata se si dovesse introdurre le famose sei ore alla fine le eccedenze sarebbero 298 è chiaro che questo questo tipo di informazioni ha gelato le rappresentanti sindacali tutti ci aspettavamo un segnale più positivo nessuno appartiene dicono non è che facciamo sogni ad occhi aperti ma un'indicazione di maggiore apertura ce l'aspettavamo questo non significa però che la partita sia finita perché di fatto ora comunque il terzo che non era presente a quell'incontro dovrà esserci quindi nei successivi incontri che sono già pianificati il governo e la nuova il nuovo ministro Federica Guidi sarà presente questo è uno dei temi caldi nell'agenda sempre se il tutto Renzi sarà non so io non ho seguito il dibattito quindi se il governo ci sarà comunque questo è nelle priorità dell'agenda del ministro e a testimonianza diciamo dell'attenzione che esiste intorno a questo tema ma in realtà esiste verso il friulio Venezia Giulia oggi pomeriggio abbiamo avuto un incontro qui a Pordenone con la commissione lavoro del Parlamento il presidente di questa commissione onorevole Damiano comunque era al completo la commissione nel auditorium della regione dove di fatto è stato un incontro più di sì lo so che sembra vi farò sorridere di avvicinamento di condivisione di soluzioni ma vi ricordo questo sì che è importante che è la prima volta in assoluto che questa commissione si sposta da Roma per venire in una regione stamattina era Trieste e oggi pomeriggio a Pordenone la prima volta in assoluto della storia che si sposta per venire e avere un miglior contatto con il territorio e con i problemi presenti oggi pomeriggio erano le RSU la parte sindacale cittadini c'erano anche i sindaci di Porcia e di Zoppola che hanno fatto la loro parte ed io abbiamo fatto la nostra parte nel sottolineare e soprattutto un punto abbiamo capito che probabilmente parlo sia della vicenda Ideal Standard che della vicenda Electrolux si arriverà ad un momento in cui alla fine penso comunque con qualche sacrificio ma lo stabilimento di Porcia non verrà chiuso e Orcenigo troverà un acquirente ma quindi se vi ricordate in uno dei passaggi che avevamo fatto proprio in questa sala avevamo sottolineato che avevamo a disposizione non più di 4-5 mesi per capire effettivamente quale sarebbe stato il destino industriale di questa fetta estremamente importante della nostra realtà economica beh pare che i tempi non magari orchestrati da noi ma i tempi saranno proprio questi bene dopo cosa succederà ed è questa la vera domanda che io mi sono permesso di fare alla commissione noi avremo una specie di bonus una specie di voucher di tempo che saranno non so si può pensare dai 3 ai 5 anni in cui avremo comunque il mantenimento di un certo livello occupazionale avremo comunque per le persone uscite dal circuito del lavoro le paracadute diciamo dal punto di vista sociale delle varie casse e della mobilità però la vera domanda che io ho fatto e che gli ho consigliato di portarsi a Roma come compitino è stata la seguente siccome nell'introduzione gli ho detto che erano benvenuti a casa ho sottolineato che per me il senso di questo saluto è che come spesso abbiamo condiviso l'economia del nostro territorio è dipesa dalla casa e da tutto quello che ruota intorno alla casa i mobili gli elettrodomestici i sanitari e ovviamente tutto il settore della componentistica che alimenta questa parte industriale ne esistono molte altre di cui non parliamo mai la NIDEC faccio solo un nome dei motori elettrici il tipico esempio della componentistica e di come sia stata nel tempo diciamo la globalizzazione abbia inciso non poco anche lì quindi supponendo di avere questo bonus di cinque anni la mia domanda è stata usando una dichiarazione che aveva fatto un sindacalista a Forlì ma parlava di Forlì dove c'è un'altra fabbrica Electrox ma penso che queste considerazioni possono essere stese anche qui la Forlì diceva c'erano gli autobus e non sono strategici ci sono gli elettrodomestici e non sono strategici c'erano le maioliche non sono strategiche c'era la chimica non è strategica ma allora cosa è strategico quindi la domanda che io ho fatto e che ho chiesto che venisse portata a Roma come compitino è noi crediamo ancora che la casa sia strategica ho capito che li ho presi anche un po' in giro che la casa e gli oggetti che vengono fatti per la casa non hanno la pil dello smartphone e dei tablet che continuavano a usare durante il nostro incontro ma ciò nonostante rappresenta un valore dal punto di vista produttivo e di presenza dal punto di vista industriale molto marcato basta che ci aiutino ci aiutino a mettere insieme le nostre idee le nostre competenze e diano la formazione giusta alle nostre persone per consentirci di avere un nuovo ambito in cui svolgere il tema della casa non possiamo venire meno da questa identità questa è la nostra esperienza e il nostro bagaglio di tipo culturale industriale basta che ce lo reinventiamo gli ho chiesto di dirci in modo chiaro andando avanti se effettivamente la casa rappresenterà una delle strategie a livello governativo e italiano quindi non parlo solo di elettrodomestici ma di tutto quello che riguarda la nostra occupazione qui perché su quello dovremmo registrarci nelle prossime puntate vi terrò costantemente informate su questo fronte perché credo che sia quello più importante per noi in questo momento e verso la città non solo la città di Pordenone ma anche le città che ci sono vicini uno degli argomenti più caldi e sentiti da tutti noi grazie signor sindaco vedo che è scritta a parlare la consigliera Piccin prego sì grazie presidente solo per così una riflessione per riconoscere al sindaco che evidentemente su questa partita fin dall'inizio il suo l'ha sempre fatto e ha sempre cercato di tenere alta l'attenzione nonostante questo credo che però debbano essere evidenziati alcuni aspetti sul caso Electrolux che riguardano sì il comune sì gli altri sindaci giustamente ma soprattutto la regione ora io credo che comprensibile il fatto che seduti a quel tavolo ci fossero due su tre per le questioni che si sono avvicendate dal punto di vista del governo ricordo però che su questa partita fu chiamato in causa direttamente dalla governatrice Serracchiani il presidente del consiglio Letta così come furono chieste le dimissioni del ministro del lavoro allora detto questo io credo e sono fiduciosa che visto che il nuovo presidente del consiglio sono convinta che il governo ci sarà nuovo presidente del consiglio erenzi e non è in nessun modo lontano dai pensieri di ciascuno di noi il fatto che la nostra governatrice già componente di questa segreteria nazionale del partito stia per assumere un ruolo ancora più importante a livello nazionale quello di segretario vicario credo che non mancheranno le occasioni per portare alla diretta attenzione del presidente del consiglio questa situazione di questo territorio così come altri territori lo faranno certamente quindi concludo dicendo che va benissimo tutto questo va benissimo anche che la commissione lavoro sia arrivata qui da noi però vedete colleghi vede signor sindaco noi abbiamo incominciato a parlare di questa questione dal consiglio regionale al consiglio comunale al consiglio aperto agli ordini del giorno a tutto quello che abbiamo fatto sicuramente sempre comunque convinti che sarebbe servito io credo così come ho detto altre volte che chi invece può darci una mano a risolvere questa questione stia da un'altra parte prima si chiamava Letta ora si chiama Renzi quindi noi a questo dovremmo fare riferimento grazie grazie consigliere Piccini bene possiamo passare all'ordine dei lavori allora comunico al consiglio che nel corso dell'ultima riunione tenuta il 18 febbraio della commissione presidente dei gruppi è stato deliberato il seguente ordine dei lavori residuo mezz'ora di interrogazioni dopodiché affronteremo le emozioni ricordo anche i consiglieri che in quella sede si è trovato l'accordo quasi all'unanimità di contenere gli interventi per quanto riguarda le emozioni a 10 minuti per il proponente per la presentazione per l'eventuale intervento e 5 minuti per i consiglieri bene passiamo pertanto all'interrogazione in mezz'ora sono le 19.51 ed esaminiamo la dunque la prima interrogazione numero 57 il consigliere proponente mi ha chiesto di sospenderla e di va bene si prego date la parola al consigliere Ribetti grazie presidente chiedevo se era possibile spostarla in quanto devo finire di raccogliere alcuni dati ho ricevuto lo scorso consiglio quelli dell'amministrazione devo finire di raccogliere alcuni dati va in coda quelle presentate finora quindi dovrebbe andare dopo quelle della PC grazie va bene pertanto esaminiamo l'interrogazione numero 58 voto presentata sempre dal consigliere Ribetti interrogazione sull'apertura straordinaria del municipio per la commemorazione a Mandela il sottoscritto Francesco Ribetti consigliere del comune di Pordenone facendo parte del gruppo consigliere del popolo della libertà premesso che domenica 15 dicembre 2013 il sindaco decideva di mantenere aperto il municipio per commemorare Nelson Mandela per fare ciò veniva utilizzato il personale dipendente del comune in orario straordinario veniva proiettato un film durante l'orario di apertura dalle 10 alle 18.30 e veniva posto un registro per la posizione delle firme di presenza tutto ciò premesso il sottoscritto consigliere comunale del gruppo del PDL interroga il sindaco ed assessore competente per conoscere 1. quante persone hanno partecipato all'evento 2. quanto sia il personale impiegato per garantire l'apertura della sala 3. quanto ammonta il costo del personale impiegato in orario straordinario e gli altri costi sostenuti per la manifestazione con richieste di ricevere prima dell'escussione in consiglio copere registro presenze firmato dai partecipanti firmato Francesco Ribetti prego signor sindaco bene è sicuramente un'interrogazione interessante che ci consente da un lato di ripercorrere dei numeri e dall'altro di farci qualche domanda allora gli riferisco la parte puramente diciamo di indicazione numerica allora il numero di accessi all'atrio del palazzo municipale non è stato registrato sentito il personale comunale presente il numero complessivo può essere stimato circa in una settantina di persone tra l'altro abbiamo un album di firme che può essere poi visto secondo per la sorveglianza durante l'apertura della sala sono stati impiegati due dipendenti comunali con la qualifica di commesso l'uno dalle 11 alle 13 e l'altro dalle 13 alle 18 e 30 la preparazione all'estimento sono stati effettuati a titolo volontario da altro personale comunale il costo del personale impiegato in orario straordinario ammonta a 155 virgola 10 euro comprensivi degli oneri riflessi gli altri costi sostenuti sono da ricondursi al costo del noleggio del film che è stato proiettato che ammontano a euro 346 virgola 28 IVA compresa dei quali 230 per i diritti di proiezione e 53 virgola 84 per la SIAE stampe e libro firme sono stati ideati e realizzati all'interno e con materiali di normale dotazione la quantificazione dei relativi costi è valutabile in non più di 5 euro e 25 e questo sono i dati diciamo puramente numerici però non le nascondo consigliere che la mia spontanea reazione era di rifiutarmi di rispondere e le dico il perché secondo me la natura di questa interrogazione rivela un vizio di fondo perché ci porta a disquisire se per esempio vale la pena celebrare il giorno della memoria o la giornata del ricordo sulla seconda non dubito che lei sarebbe d'accordo di continuare a celebrarla sulla prima volta i due dubbi per cui mi permetto di esternargliele uno due c'è un problema di fondo Nelson Mandela era stato non a caso come lei ben sa era un nostro cittadino onorario perché era un cittadino onorario perché questa città come proprio valori condivide quello del fatto di non avere il concetto di divisioni razziali Nelson Mandela è stato un campione a dimostrare che nonostante fosse stato in carcere andato al governo una illuminata politica da parte sua ha consentito di avere questa equità e parificazione tra razze diverse in un paese complicato come è il Sudafrica senza per quello causare un bagno di sangue ora siccome io penso che proprio in tempi come questi siano come avevamo peraltro condiviso in questa in questa assemblea avevamo condiviso un entusiastico ricordo di Nelson Mandela mi permetto di sottolineare che il motivo vero o la logica che sta dietro a questa interrogazione a questo tipo di interrogazione mi sfugge però un certo senso così di allergia al fatto della parità tra razze non avere bollini eccetera a volte così come logica e come sospetto mi viene che quindi la interrogazione non sia sul evento di per sé ma abbia di per sé dietro un pensiero di natura diversa grazie signor sindaco prego consigliere dichiararsi se si ritiene soddisfatto prego la ringrazio presidente sindaco la ringrazio la ringrazio profondamente perché ancora una volta poteva prendere l'occasione per tacere e invece o fu limitarsi a dare una risposta attinente a quella che era l'interrogazione al posto al posto di fornire al posto silenzio grazie grazie presidente al posto di fornire un'interpretazione del tutto personale e fuori luogo che dimostra tra l'altro come lei abbia una memoria veramente corta basta che lei vada a vedersi e le deregistrazioni a sentirsi dovrebbe ricordare che io in quel consiglio comunale ho esordito ringraziando l'amministrazione per il cambio di passo rispetto all'amministrazione precedente né ho detto una parola che sia una su Mandela nel senso negativo di accezione negativa né tanto meno mi sono permesso di muovere nessuna critica sul colore della pelle di Mandela il senso della mia interrogazione è tutto diverso e se lei avesse avuto il buon senso prima di questo sproloquio di riguardarsi il consiglio comunale avrebbe capito dove doveva andare dove voleva andare la mia interrogazione il significato della mia interrogazione in quel consiglio comunale se lei lo ricorderà se no potrà andare a vederlo era stato proposto da parte del capogruppo del fiume che adesso non vedo in aula mi dispiace citarlo ah scusa puoi uscire allora puoi uscire Bianchini per cortesia fate signore per cortesia fate terminare l'intervento perdiamo poco e niente allora andava andava proprio andava proprio in senso opposto quando lei quando il consigliere Bianchini lanciò l'idea di tenere aperto il municipio io feci semplicemente presente che si poteva onorare la memoria in molti altri modi non mi sembrava il caso in momenti proprio di ristrattezza economiche di tenere aperto il municipio e tra parentesi con lo scarso criterio con cui l'avete tenuto voi perché io sono venuto alla fine avete troncato il film a metà della proiezione quindi almeno il buon senso avrebbe voluto una programmazione un attimo migliore poi possiamo anche ricordare delle 70 firme che lei ha citato scarse perché sono scarse la maggior parte sono di esponenti della maggioranza ma gliene dico anche un altro sindaco perché forse dimenticate che viviamo in una piccola città dove tutti conoscono tutti e sono arrivati allo scrivente tramite altre persone i messaggi che giravano tra i componenti dei gruppi che supportano la sua maggioranza per pregarli di andare in municipio a firmare quindi se lei inizia a depurare il numero di 70 dalla firma del gruppo del fiume con la firma dei componenti del gruppo del fiume con la firma del gruppo del PD dalla firma di tutti i componenti del gruppo del PD si renderà conto che il tenere aperto il municipio di Pordenone per ricordare Mandela è stato un inutile spreco di soldi ma non perché ma non perché Mandela non mi faccio strumentalizzare magari non lo meritasse no semplicemente perché si poteva ricordare la sua memoria magari spendendo anche di più ma in maniera molto molto migliore piuttosto che per un capriccio che ha dimostrato i fatti ci hanno dimostrato che è stato semplicemente un capriccio e la città non ha assolutamente gradito ecco quindi quindi beh basta che legge vogliamo leggere i nomi vogliamo leggere i nomi delle persone che si sono recati qua allora Sandro del Santo Michele Negro sono tutti sono tutti no ma sono schedati ma sono tutti qua per sono tutti i componenti della sua maggioranza sindaco quindi quindi ho fatto ho detto la maggioranza del suo sindaco quindi sulle accuse sulle accuse delle lanciate di razzismo francamente le rispedisco al mittente perché guardi non mi toccano non avrei motivo non mi toccano minimamente perché non era quella la mia intenzione e ribadisco che poteva che poteva limitarsi che poteva limitarsi a dare una risposta attivente all'interrogazione avrebbe fatto migliore figura grazie bene passiamo ora all'interrogazione numero 2 dal momento che manca il proponente il consigliere Perfido per quelle precedenti al signor sindaco del comune di Pordenone sottoscritto consigliere comunale alla lista vivo Pordenone nel constatare che siamo in fase di ottimazione dei lavori della palazzina servizi e dell'area circostante il centro intermodale passeggeri presso la stazione ferroviaria di Pordenone interrogo il sindaco e la giunta per conoscere se per il tratto compreso tra le pensiline della stazione ferroviaria e quelle del centro intermodale la distanza consta di qualche decina di metri sia previsto un collegamento coperto nel caso in cui la risposta fosse negativa non sia opportuno farsi parte attiva nei confronti di RFI nel promuovere tal intervento al fine di completare in modo efficace un'area di servizi importante per la quale molto è stato fatto ed investito sia possibile capire in riferimento anche ad una mia precedente interrogazione a che punto sia giunto l'iter per il superamento delle barriere architettoniche all'interno della stazione ferroviaria ascensori e montacarichi per quanto riguarda l'accessibilità degli utenti al sottopasso ferroviario e ai marciapiedi dei binari firmato Roberto Freschi e consiglio comunale Vio Pordenone Assessore Moro Zille Moro prego Grazie Presidente Velocemente nella progettazione originale dell'intermodale era prevista una struttura di copertura che arrivava nelle adiacenze della stazione ferroviaria poi successivamente su sollecitazione della provincia di Pordenone che è sostanzialmente il concessionario di quella struttura cioè colui il quale ha concesso al comune la realizzazione della gestione di quella struttura sono arrivate delle richieste di variante nel progetto definitivo questa struttura è diventata diversa un piano in più ed è stata ridimensionata nella tettoia nella copertura per cui si è creata questa distanza tra l'edificio dell'intermodale e la pensilina della stazione il piano economico non riusciva a comprendere anche la realizzazione di questa di questa passerella per cui oggi la realizzazione che è ultimata è quella che noi vediamo tutti senza il collegamento non è possibile in questo momento per questione di patto di stabilità prevedere ulteriori investimenti su quella realtà su quella realtà pertanto ci faremmo sicuramente parte attiva nei confronti delle ferrovie per vedere di riuscire a trovare una soluzione anche se devo dire che la pensilina sarebbe realizzata sul terreno dove oggi è inserito l'intermodale per cui non sarebbe sul terreno delle ferrovie dello Stato per cui sarebbe anche difficile chiedere o pretendere comunque la realizzazione da parte loro comunque ci attiveremo e cercheremo di risolvere la questione per quanto riguarda il terzo quesito lascio la parola all'assessore Zille sì per quanto riguarda la precedente interrogazione ci siamo mossi con la rete ferroviaria italiana e riguardo la nostra richiesta abbiamo avuto la risposta da parte dell'ingegnere Maurizio Gentile della sede di Roma il quale ha dato riscontro alla nostra richiesta ancora in data 7 ottobre 2013 il quale intende ribadire l'impegno prioritario assunto da rete ferroviaria italiana nell'ambito del progetto denominato 500 stazioni per la realizzazione degli interventi di adeguamento complessivo dell'accessibilità nella stazione di Pordenone tra l'altro sono previsti in attesa appunto dell'esplettamento delle procedure connesse all'affidamento dei lavori i tempi di realizzazione delle opere programmate è prevista la conclusione nel 2015 e viene anche indicato che verrà scelto al di là delle opzioni che a suo tempo furono fatte se montascale o altri strumenti verrà fatta la scelta in particolare di realizzare degli ascensori ecco questo viene detto nel frattempo ribadisce che nelle emergenze c'è l'attività gratuita delle cosiddette sale blu che vengono messi a disposizione per tutti quegli utenti che hanno bisogno questo soprattutto avendo fatto una richiesta e una certa urgenza anche in previsione della donata degli alpini mi è stato ribadito che comunque questo servizio sarà a disposizione per l'evento successivamente da una telefonata diretta che ho avuto anche con lo stesso ingegner Gentile per vedere di accelerare all'interno di questo piano affinché possano i lavori iniziare già a fine 2014 sono in contatto sempre l'indirizzo dell'ingegner Gentile con l'ingegner De Giuseppe e l'ingegner Kerr della stazione di Trieste con la quale mi hanno detto che in qualche modo cercheranno all'interno dell'appalto di far partire prima possibile i lavori qua sulla città presso la ferrovia di Pordenone ecco questa è la situazione del momento che peraltro stiamo seguendo e siamo ripeto in contatto con la direzione di Trieste grazie prego consigliere può dichiarare se si ritiene soddisfatto grazie grazie presidente io ringrazio entrambi gli assessori l'assessore Moro e l'assessore Zille per le risposte che hanno dato a questa interrogazione perché denotano il loro interessamento e la loro attenzione per un problema che è un problema di tutta la cittadinanza di tutti gli utenti che in qualche modo usufruiscono del servizio ferroviario e del servizio dell'autotrasporto su gomma ecco mentre mi ritengo soddisfatto per quanto hanno detto gli assessori per il loro impegno e per la loro celerità anche nel inoltrare richieste e sollecitare risposte mi permetto però di introdurre una nota un po' critica una nota di tristezza soprattutto questa secondo me è un po' la fotografia del nostro paese cioè la fotografia di un paese che di fronte a fatti reali a necessità reali riesce ancora a trincerarsi dietro ad aspetti di tipo burocratico questo è uno dei nodi è uno dei nodi che anche diciamo il recente governo dovrebbe in qualche modo affrontare avendo messo la burocrazia nell'elenco delle cose da dover in qualche modo rivedere e da dover in qualche modo sollecitare ecco io penso che un servizio in una stazione ferroviaria dove si costringono persone portatrici di handicap oppure madri che debbono spostare bambini in carrozzine ok ad avere un servizio su prenotazione penso non sia degno di un paese di un paese civile poi progettare quello che è stato progettato con dispendio di energie con idee con capacità e anche con un bel risultato rendendo lo zoppo per 20 metri che non si riescono a concludere ecco anche questo mi pare un aspetto che veramente non è positivo per cui grazie agli assessori e all'amministrazione per l'impegno che ci ha messo e auguro e vi avete appieno la mia solidarietà e il mio ringraziamento e il mio aiuto per quello che state facendo lasciatemi però esprimere questa nota un po' di rammarico perché servizi così diciamo di pubblica utilità dovrebbero avere corsie e percorsi preferenziali e non dovrebbero esserci spendi review che tengano per dare soluzione ai problemi grazie grazie consigliere passiamo ora all'interrogazione numero 4 sul punto per i lavori su via nuova di Corva il sottoscritto Francesco Ribetti presidente del gruppo consigliare PDL Popolo della Libertà fratelli d'Italia del consiglio comunale di Pordenone premesso che il tratto di strada di via nuova di Corva compreso l'ex edificio Mercatone Z in comune di Pordenone ed il ponte su fiume Medune in comune di Aziano Decimo frazione Corva versa da troppo tempo in condizioni disastrose la sicurezza di pedoni ciclisti e automobilisti è messa a dura prova a causa dell'abbandono dei lavori e della massiccia presenza di buche avvallamenti e mancanza di illuminazione detto percorso obbligatorio è ad alta elevata densità di traffico ed è praticato da parte di molti concittadini oltre che dei cittadini di altri comuni limitrofi per giungere in città le condizioni si aggravano maggiormente d'inverno in seguito alle precipitazioni piovose rendendo poco visibili e prevedibili le inside stradali numerosi sono gli automobilisti costretti a riparazione del proprio veicolo a seguito dei danni provocati dal cattivo stato della strada e che nei momenti di maggior transito dei veicoli in direzione opposta risulta impossibile evitare le buche presenti sulla carreggiata tutto ciò premesso il sottoscritto consigliere comunale del gruppo del PDL fratelli d'Italia interroga il sindaco ed assessore competente per conoscere quali siano le motivazioni per le quali tale tratto di strada si trova in tali condizioni per quale motivo ad oggi non siano ancora stati terminati i lavori se è vero che tale opere di competenza del comune di Pordenone indelega amministrativa della protezione civile in quanto ricadente principalmente nel proprio territorio se risponde al vero che il progetto iniziale sembra destinato ad essere ridimensionato almeno per quanto riguarda la realizzazione di una pista ciclabile a che punto sia l'iter circa la progettazione lo stato dei lavori e la tempistica per il proseguo dagli stessi firmato Francesco Ribetti prego assessore Conficoni Grazie Presidente per la parola e grazie al Consigliere Ribetti per l'interrogazione che porta all'attenzione di questo Consiglio quella che ormai sta diventando purtroppo un'onnosa questione legata alla situazione all'intervento di riqualificazione della strada statale 251 che è un intervento di sistemazione idraulica di messa in sicurezza idraulica del territorio che effettivamente il Comune di Pordenone svolge in delegazione amministrativa non tanto per conto della protezione civile quanto per conto della Regione Friuli Venezia Giulia i lavori sono fermi inizialmente a causa di alcuni imprevisti che si sono verificati durante gli stessi successivamente a causa dell'insorgere di un contenzioso sollevato dall'impresa nei confronti dell'amministrazione è una situazione piuttosto complessa che siamo concretamente impegnati a risolvere cercando di superare questo stallo anche attraverso una revisione progettuale che non comporti un ridimensionamento dei risultati che attraverso l'intervento noi vogliamo conseguire ma un ulteriore miglioramento degli stessi anche in conseguenza degli interventi atmosferici degli eventi atmosferici diciamo di carattere eccezionale che si sono verificati nel 2010 nel 2012 abbiamo immaginato di modificare il progetto andando ulteriormente ad innalzare la sede stradale per evitare che possa finire allagata in occasione di eventi esondativi con tempo di ritorno molto sostenuto abbiamo ipotizzato di aumentare le luci in corrispondenza del rilevato in modo tale da favorire il deflusso delle acque di apportare degli accorgimenti che consentano di ridurre le spese di manutenzione di gestione diciamo dell'opera una volta che la stessa sarà terminata e anche di realizzare la pista ciclabile perché la volontà di questa amministrazione è che all'esigenza della sicurezza idraulica si possa accompagnare anche quella della sicurezza stradale abbiamo elaborato uno studio di fattibilità supportando queste scelte progettuali con adeguate motivazioni e lo abbiamo presentato nelle scorse settimane all'assessore regionale Panontin questo studio è stato sostanzialmente accolto anche dai tecnici della regione compresi quelli della protezione civile tant'è che l'assessore Panontin ha inviato nei giorni scorsi una lettera al comune di Pordenone con una promessa di finanziamento di un finanziamento aggiuntivo di 1.600.000 euro per il quale la giunta regionale ha già fatto uno stanziamento il 31 di gennaio quindi manca solo la firma del decreto che consentono di effettuare questi interventi migliorativi quindi proprio venerdì scorso con una delibera di giunta siamo andati a modificare il quadro economico dell'opera per poter riprendere capacità di spesa andremo adesso in questo momento a lavorare su un doppio binario da un lato a trasformare lo studio di fattibilità in progetto vero e proprio cosa per la operazione per la quale ci vorrà qualche settimana si ipotizziamo due o tre mesi nel frattempo lavoreremo anche per superare il contenzioso con l'impresa con la speranza che la stessa decida di riprendere i lavori e se questo risultato fosse centrato noi riteniamo che diciamo che quest'estate i lavori potranno riprendere ecco diversamente se il contenzioso con l'impresa non potrà essere risolto dovremo riappaltare l'opera e allora i tempi si allungerebbero questo è lo stato dell'arte grazie Assessore prego Consigliere Ribetti ringrazio Presidente ringrazio anche l'Assessore ringrazio anche per aver ottenuto la risposta chiaramente non posso essere soddisfatto Assessore credo che neanche lei sia soddisfatto di questa situazione anche perché è da troppo tempo che la strada versa in quelle condizioni è da troppo tempo che i cittadini sia tanto che i cittadini di Pordenone che si recano fuori tanto quelli che a Pordenone devono andare a lavorare soprattutto ma anche svolgere le altre faccende passano e si trovano in quelle condizioni mi preoccupa soprattutto quello che lei ha detto Assessore vi siete accorti adesso che forse c'era un errore progettuale quindi mi verrebbe da dire ben venga il contenzioso con l'impresa se adesso state rivedendo il rialzare la strada l'aumentare le luci a seguito degli eventi del 2010 2012 mi verrebbe da pensare che se non ci fosse stato il contenzioso avremmo completato un'opera che poi avrebbe manifestato probabilmente qualche problematica quindi se da una parte devo dire meglio tardi che mai che ve ne siete accorti dall'altra mi trovo costretto a dire potevate svegliarvi prima in ogni caso ritengo che la situazione debba essere sbloccata perché non è più possibile procrastinarla oltre io so che ci sono anche colleghi del consiglio comunale di Azzano Decimo che hanno chiesto non so adesso se fare un consiglio comunale aperto oppure per sollecitare uno sblocco della questione io ritengo che l'amministrazione debba fare quello che può ma in maniera concreta non solo a parole lei parlava di a luglio iniziare i lavori tanto luglio iniziare i lavori siamo a fine febbraio no no capito però bisogna fare qualcosa perché non è non è altro modo possibile se vi rendete conto in quelle condizioni curve ciglio stretto buche bisogna intervenire quindi io mi auguro visto che la regione in mano è di un colore più vicino al vostro che al mio mettiamola così e mi auguro in qualche maniera di sbloccare questa situazione perché non è possibile che una città poi soprattutto col flusso di gente che avremo a maggio perché da là qualcuno passerà ecco mi auguro che quindi l'amministrazione velocizi per quanto possibile per quanto nelle proprie possibilità i tempi grazie grazie consigliere sono le 20 e 20 pertanto mancherebbe ancora un minuto ma direi di passare alle mozioni passiamo alle mozioni anche perché le mozioni sono le che aspettano da molto bene passiamo pertanto alla mozione numero 12 del 25 febbraio presentata dal consigliere Giannelli prego consigliere Giannelli scusi consigliere ricordo ancora l'accordo che è intervenuto in sede di commissione presidenti per il quale l'intervento all'esposizione alla mozione dovrebbe durare 10 minuti e gli interventi non più di 5 è un accordo pertanto come ho già ripetuto io non potrò togliere la parola se non se verrà superato il tempo previsto dal regolamento che sarebbero 15 e 10 prego volevo dire presidente mi scusi per motivi politici chiedo se possiamo vederla questa mozione al prossimo consiglio comunale non è io faccio una richiesta se possiamo vederla al prossimo consiglio scusi discuterla discuti no salvo che lei non la ritira e non la mette in coda no no non la ritiro se vuole metterla in coda la sospende e la mette in coda però eh se no vabbè prego ah non sto molto bene dovrei uscire bravo per fortuna ragazzo allora visto che siamo stati in tempestivi devo dire che eh Frank va bene cosa succede? cioè devo illustrare io la illustra lei non mi ricordo allora e fuori va beh ma insomma cioè facciamo facciamo così facciamo così siccome siamo tra amici giusto e i cittadini ci guardano i cittadini ci guardano è evidente che così come il PD non era orientato con tutti i componenti nello stesso modo così come altri gruppi politici non voi il fiume però entrerò nel merito della dell'emendamento anche a casa nostra chiedo la sospensione di un secondo abbiamo due argomenti che sono collegati o illustra due mozioni o altrimenti o altrimenti la rimettiamo alla prossima settimana scusate 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 ma dico no 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 scusi consigliere Dalmas come il consigliere Giannelli le avrà riferito abbiamo già discusso di tutto questo in sede di commissione capigruppo pertanto o procediamo così oppure non c'è non c'è alternativa abbiamo già discusso di questo prego bebe insomma bebe che la dobbiamo discutere ma beh sa noi siamo un partito democratico del quale c'è una grande dialettica e anche stasera l'amico Dalmas vedrà che riusciremo a comporre la questione allora io dico questo è evidente lo sanno i giornalisti lo sanno anche il consiglio comunale che su questo argomento cioè la soppressione soppressione delle circoscrizioni delle circoscrizioni scusate l'apsus calami dicevano i latini l'apsus calami consigliere allora mi continuano a disturbare il signor giudice il tempo scorre perciò allora anche all'interno del mio gruppo non c'è omogeneità di sì ma hai fretta no vuoi parlare tu senti a me non c'è nulla che mi imbarazzi dovresti saperci ti puoi immaginare che è imbarazzante che è parlare di questa questione io dico subito che il mio gruppo non è orientato nello stesso modo con cui sono orientato io ho preso visione eh è normale è logico no no ma no voglio dire all'ultimo momento c'è stato un ripensamento noi siamo onesti diciamo mentre qualcuno a volte non dice io devo dire che l'emendamento che non l'avete ancora? ah non è presentato quindi bene non l'avete neanche presentato per fortuna perché perché è un emendamento che bisognerebbe no stracciarlo allora io dico i cittadini ci guardano non ci sono soldi ma insomma mi fate parlare non ho più la voce di una volta sono un povero vecchietto sono costretto ogni tanto a dire qualche parolaccia per ottenere per ottenere l'attenzione ammettete che che non so io bevendo rovesci rovesci il bicchiere d'acqua addosso ad Almas allora vedete che sto portando avanti mi fate parlare o no? signor presidente mi fate parlare il consigliere così tutte queste interruzioni scusi consigliere parli mi darà un po' di recupero almeno recupero allora la gente ci guarda la gente aspetta si aspetta la diminuzione dell'apparato per apparato pubblico intende tutto la gente si aspetta che eliminano le province la gente si aspetta che il senato non esista la gente perché non basta la gente si aspetta che i parlamentari della regione siano di meno la gente vorrebbe che anche i consiglieri comunali fossero di meno perché non è giusto che l'apparato dello Stato sia ma non funziona sentite ecco a questo proposito io credo che si aspetti l'eliminazione dei quattro e spero che durante l'attito spero per chi invece li vuole mantenere emergano delle reali motivazioni dei motivi reali consistenti per i quali dovrebbe rimanere in piedi una struttura che non serve a niente che viene brutalmente castigata dal consiglio comunale e dalla maggioranza io mi rendo conto che sono in qualche modo un bacino di voti credo che sia anche giusto tenerle in piedi fino alla fine del mandato già scadenza naturale però vi rendete conto che sono paragonate all'assemblea di condominio cioè non servono a nulla costano probabilmente non costano la cifra che ho indicato io anzi alla fine poi se noi pensiamo anche all'assessorato di riferimento il costo c'è perché l'assessorato del decentramento è direttamente legato alle circoscrizioni se no non ci sarebbe qui non tanto il costo che per quanto non sia un costo esorbitante comunque ha una sua importanza mi rendo che mi rendo conto che potrebbe sembrare una sorta di cioè come castigare la democrazia togliendo un apparato che dal mio punto di vista può fare perfettamente l'assessore competente cioè se c'è un buco davanti a casa vostra così come andate in quartiere e dite guarda che lì bisogna mettere a posto questo potete andare dall'assessore competente il cittadino fa più bella figura andare dall'assessore competente e chiedere che sistemi quello che è perché siamo un piccolo comune le strade le vie i problemi sono quelli di un piccolo comune non capisco per quale motivo si debba mantenere in piedi queste strutture sono anni che lo diciamo il fatto poi di dire che il quartiere potrebbe avere importanza se fosse più ascoltato dal comune se avesse poteri deliberanti oppure avesse poteri di spesa è una cosa ridicola perché in un comune come Pordenone il quartiere può essere tranquillamente le funzioni del quartiere esercitate dall'assessore competente se dico se i punti di vista le aspettative le problematiche proprio del quartiere cioè degli abitanti che vivono quella zona non so faccio per dire l'assessore ai lavori pubblici non abita in centro quindi le problematiche del centro devono essere riportate vabbè vorrei dire che l'assessore nominerà una piccola commissione fatta di due elementi che vivono in quella zona per avere un ascolto più vicino i problemi però non nascondetevi dietro al dito della rappresentatività signore stute cazzate la gente stufa di vedere apparati che costano certo non costano come la Camera dei Deputati però insomma che costano la gente non ha più soldi la gente non ha più speranza in Italia non c'è voi avete sentito prima il sindaco sull'Electrolox io continuo a dire che purtroppo il sindaco lei è bravissimo ma è finita e l'Italia sta finendo sono i consigli e i consigli del vinico continuo a dirlo è la città dell'impero romano stavamo benissimo adesso è un disastro quindi anche questo dà l'indicazione precisa di una volontà politica che è quella di sfrondare eliminare rendere le cose più semplici ma ditemi voi perché io devo andare a parlare di un problema che ho nel mio quartiere ad un'assemblea quando potrei andare dall'assessore busso alla porta assessore ci sono le buche in viale Grigoletti sono un bacino di voti sono un bacino di voti questo lo capisco lo sappiamo tutti a me non interessa e non credo che sia questo il momento di ritornare su una vecchia questione politica che è quella che i quartieri servivano un po' per distribuire chi non era passato chi aveva voti all'interno o le tesse all'interno dei partiti voi sapete che io per fortuna il mio partito non ho mai preso nulla e quindi parlo liberamente è vero che all'interno del mio partito ci sono posizioni diverse io le rispetto mi avevano chiesto un po' di tempo lo volevo dare così come l'ho dato al PD che aspetta da tempo mi dispiace non l'ho avuto ma credo che se anche all'interno di Forza Italia due componenti del gruppo la vedono diversamente benissimo è una cosa logica anzi nel dibattito spero di sentire qualcosa che mi convinca vi dico solo un'ultima cosa e ho finito il grande architetto Norman Foster al grande architetto Norman Foster fu dato l'incarico di rimettere a posto Sistemare Trafalgar Square che è un bellissimo posto a Londra Norman Foster abituato a fare grandi opere uno dei i cinque architetti più bravi più ricchi e più famosi del mondo cominciò a lavorare su questa piazza e arrivò il quartiere che portò addirittura tra i mille problemi per rimettere un po' a posto Trafalgar Square addirittura le associazioni e le associazioni portarono le associazioni delle associazioni il quartiere fu l'elemento disastroso in base al quale Trafalgar Square non è ancora sistemato questo è sintomatico per dirvi che ormai non esiste funzione pubblica che non sia un rallentamento all'economia perché siamo ammalati di troppa democrazia io spero che voi lo capiate siate dal mio punto di vista eliminate i quartieri a far data dalla scadenza naturale questa come si dice questo emendamento che farà il PD e il fiume lo trovo intelligente e giusto sul fatto di perdere il quartiere alla sua scadenza naturale non trovo anticipo quello che vi diranno non trovo elegante quello di dire aprire a un'altra forma che se non è il quartiere si chiamerà aggregazione di cittadini oppure se non si chiamerà aggregazione di cittadini si chiamerà qualcos'altro non serve siamo una piccola città abbiamo dei gentlemen e delle signore come assessori pronti sempre aperti qualsiasi tipo di nostra abbiamo delle strutture pubbliche che funzionano benissimo posso dirla scusi presidente posso dire ma che cosa ci serve il quartiere grazie 15 minuti bene prego assessore Mazzio molto brevemente grazie presidente molto brevemente proviamo ad affrontarla come un ragionamento su noi stessi proviamo a capire ma serve un altro livello istituzionale tra la comunità e l'assemblea e questa assemblea o non ce n'è bisogno perché la domanda che dobbiamo farci è questa di cosa abbiamo bisogno proprio su quello che diceva il consigliere Giannelli prima abbiamo anche nuovi mezzi di comunicazione che ci permettono di stare a contatto col cittadino in maniera diversa da un tempo io vi ricordo soltanto le segnalazioni online che abbiamo il sito ci permette di fare una segnalazione via mail di avere la risposta immediata ti dicono chi ha preso in carico la pratica quando intervengono forse noi dobbiamo ripensare a un livello che si occupi di qualcosa di diverso rispetto alle problematicità di un tempo perché probabilmente le esigenze della comunità sono anche cambiate adesso si sta trattando a livello nazionale del titolo quinto della costituzione cioè della concorrenza delle competenze fra lo Stato e la Regione perché cercare di non avere sovrapposizioni di competenze e volete che noi istituiamo dei livelli facciamo avessimo dei livelli istituzionali che hanno le medesime competenze andremo un po' in contraddizione con quello che si sta facendo un po' a livello nazionale però se io vi devo dire la verità la mia esperienza piccola che ho maturato le circoscrizioni sono più state visibili e utili non sui livelli istituzionali soltanto sui pareri alle delibere o sui pochi contributi che distribuiscono perché hanno una quota minima di contributi per alimentare quelle che sono delle iniziative di quartiere io credo che il velo valore delle circoscrizioni quelle che sono riuscite in qualche maniera anche a interpretare il ruolo in maniera un po' innovativa rispetto alla storia delle circoscrizioni quello che erano quando le prime volte che era consigliere aereo rossetto che allora sì avevano una funzione politica vera anche di accompagnare i provvedimenti decisionali che venivano presi qua dentro cercando di farli rendere consapevoli anche a tutta la comunità e le spiegavano le cose quella volta perché c'era bisogno di spiegarle oggi leggiamo i provvedimenti di legge i disegni di legge e sentiamo quello che succede al Parlamento direttamente da casa e quindi c'è un'esigenza diversa però con la dimissione di stasera che ha dato anche Bruno Zille in giunta a parte il sindaco non c'è nessun assessore che può più votare su questo quindi noi come amministrazione in qualche maniera siamo costretti a rimetterci a questo consiglio a cercare di capire da questo consiglio quali sono gli indirizzi che ci date su quale strada su quale obiettivo su quale orizzonte dobbiamo lavorare per trasformare queste istituzioni per modificare queste istituzioni per lasciarle come sono se ritenete ma ho paura che lasciarle come sono non facciamo neanche un gran piacere a quelli che ci stanno lavorando probabilmente qualcosa di diverso dobbiamo fare allora dobbiamo capire qual è la direzione da percorrere e mi rendo conto consigliere Giannelli lei lo diceva all'interno del gruppo di Forza Italia ma qui noi non manifestiamo un vincolo né di maggioranza né di opposizione la scorsa volta sono state votate in maniera trasversale tra maggioranza e opposizione in questo momento anche negli stessi gruppi probabilmente ci sono opinioni diverse quello che io dico non facciamo non riconduciamo a un dibattito di maggioranza e opposizione o di un partito sull'altro partito forse ci conviene approfondire l'argomento per capire alcune cose importanti la prima roba è qual è il reale la reale necessità della nostra comunità rispetto a un parlamentino territoriale e quali sono le competenze di cui è necessario che questi si occupi per essere più efficaci e anche riconosciuto e quindi le dobbiamo sicuramente riformare sotto questo punto di vista ma devono essere elettive o non è necessario che siano elettive c'è bisogno di convolgere un volontariato che esiste nel territorio e che è parte del nostro tessuto e che dobbiamo riconoscergli un ruolo per renderlo protagonista e coinvolgerlo quindi in queste attività istituzionali sì o no queste sono le due domande cercare di capire quindi quali compiti e con quale modalità devono svolgere il loro compito se attraverso delle elezioni o attraverso qualche altra procedura per questo ci limitiamo a dire come amministrazione che avremo bisogno con voi di approfondire come giunta quindi di approfondire con voi quelli che sono le migliorie che possiamo apportare fino a che punto le possiamo apportare dove le possiamo apportare da parte nostra ovviamente il consiglio è sovrano e decide e ci dà degli indirizzi e noi gli indirizzi li portiamo avanti come volete so che ci sono anche delle emendamenti a questa a questa mozione vediamo se trovano anche un consenso da parte di questa di questa aula e quindi procediamo anche in quel senso se ci sono io non posso dire di più perché volevo lasciare al dibattito proprio chiarire quali sono per voi in questo momento le cose che bisogna fare e verso quel orizzonte dobbiamo raffrontarci grazie assessore bene iniziamo la discussione dalla parola al consigliere Passoni prego consigliere va bene la parola al consigliere Delben scusi consigliere io uso solo la prima parte dei cinque minuti che abbiamo coccorato a disposizione per fare una questione di metodo intanto mi meraviglia che l'assessore Masser dice non sappiamo dove andare in realtà se guardate il vostro programma elettorale dove volete andare è già scritto e c'è un emendamento che sta girando che abbiamo visto che è perfettamente in linea con quegli indirizzi allora la maggioranza ha un emendamento in serbo e che avrà più voti della maggioranza è perfettamente in linea con il programma elettorale le circoscrizioni sono nello statuto del del comune di Pordenone io sono dell'idea che sono non solo un costo ma anche un valore semplifichiamo tutto presentate l'emendamento che avete e state tranquilli che la risposta giusta a questo problema potremmo darla ho fatto il primo minuto ovviamente gli altri quattro minuti se serve dopo ma penso che da come stanno le cose si possa semplificare molto grazie consigliere consigliere Passoni che è stato cancellato prego consigliere Passoni signor presidente colleghi colleghe mi pare che dopo le parole che ha anche espresso qui il consigliere del Ben la discussione potrebbe essere più semplice però siccome è un argomento che mi ha sempre interessato la partecipazione democratica mi sento di fare alcune osservazioni prima di tutto al collega Giannelli che secondo me avrebbe fatto bene anche se ha suscitato un dibattito interessante avrebbe fatto bene a ritirare questa mozione perché così come è stata esposta e scritta francamente la trovo addirittura quasi quasi legittima diciamo così poi anche le motivazioni francamente è una delle cose che costano meno in assoluto nel comune e noi andiamo a toccare quella quando altre cose invece che magari costano di più non diciamo niente e forse era più corretto se si doveva parlare di costi della politica e dell'amministrazione pubblica fare un ragionamento complessivo che riguardasse la giunta il consiglio comunale quindi anche le circuzioni allora avrebbe avuto tutto un altro discorso addirittura adesso che parliamo della città dei centomila c'è questa fa trend in questo momento e a maggior ragione a maggior ragione si dovrebbe si dovrebbe discutere più seriamente le strutture e non abbattersi come sempre accade poi nella politica sulle strutture più piccole o diciamo così sulle strutture più deboli io voglio rappresentare qua i colleghi che non hanno avuto e mi chiedo scusa se quelli che vogliono parlare magari potrebbero anche presidente farlo fuori dall'aula visto che devo richiamarlo io non so perché insomma quando uno parla fa una fatica cerca di fare un ragionamento di contributo all'aula allora io ho avuto una un'esperienza positiva nei consigli di circolazione e devo dire che abbiamo avanzato diverse proposte poi in quel caso c'era l'amministrazione Pasini spesso diciamo le rigettava però in alcuni casi hanno avuto anche dei risultati come per esempio grazie anche non solo al voto unanimo della circolazione ma anche una raccolta di firme siamo riusciti ad abbattere forse in maniera anche eccessiva perché poi è sparita la casa della contadinanza che forse qualcuno di voi specialmente quelli di Torre conoscono fu abbattuta completamente invece di recuperarla che era questo un po' il desiderio di molti ma quella piazza fu liberata da un pericolo che era dovuto a questo edificio del comune questo per dire come esperienza diretta diciamo il significato che può avere perché francamente il discorso che ha fatto il vice sindaco mi ha fatto piacere nel senso che dice noi qua vogliamo siamo qui per ascoltare giustamente quelli che sono gli indirizzi e le volontà del consiglio comunale rispetto a diciamo a questo in questo su questo argomento però non dimentichiamoci che noi avevamo comunque nel programma amministrativo la riforma delle istituzioni che in qualche modo erano delegate all'assessore Zille oggi sono delegate nella sua persona per cui credo che ci sia e ci debba essere l'impegno da parte dell'amministrazione quindi anche del sindaco che nel febbraio dell'anno scorso andò a discutere con tutti i consigli di circolazione in sala rossa e mi pare che la parola fu quella di fare una proposta in tal senso per cui questo credo che è l'invito che hanno fatto oltretutto le istituzioni riunite in sede congiunta a Torre il 13 di questo mese in cui chiedono al sindaco di riunirsi per incominciare a ragionare su una proposta di riforma penso che questo sia il lavoro che c'è da fare poi sul fatto che qualcuno dica elettiva non elettiva io francamente su quegli organismi nominati non ci trovo una cosa positiva dico francamente e lo dico apertamente anzi io penso che il fatto che qualcuno venga eletto è un fatto di democrazia per cui io penso che per quanto mi riguarda almeno questo sia un aspetto importante sono convinto anche che queste istituzioni nonostante che non siano definite che gli stessi di cui fanno parte oggi con onore perché svolgono una funzione di raccolta di problematiche e anche a volte risolvono dei problemi insieme all'amministrazione non può essere sottovalutato questo aspetto questo aspetto di filtro che fanno anche per l'amministrazione pubblica per cui ritengo che questa discussione vada affrontata tenendo conto che a maggior ragione oggi dove il disagio è aumentato e la crisi avanza molte situazioni vengono affrontate in primis dal presidente della circolazione o da alcuni consiglieri più sensibili sempre delle circolazioni io credo che quindi in questo senso svolgono nel territorio una funzione in qualche modo rappresentativa è che di aiuto all'amministrazione non al contrario come qualcuno e come dice nelle premesse l'amico Giannelli per cui prima lo invitavo a ritirarla perché secondo me il fatto di doverle come lui chiede di cancellarle trovo che sia una proposta assolutamente sbagliata per cui visto che il mio gruppo ha preparato un emendamento che va in questa direzione quindi della riforma delle circolazioni perché non dimentico non dimentico che che tra l'altro scusate penso che su questo dobbiamo ragionare tenendo però presente l'invito e io questo ve lo consegnerò al sindaco all'assessore competente e al presidente del consiglio quello che è stato il documento approvato l'animità di tutta l'iscrizione il 13 febbraio giovedì 13 febbraio di questo mese perché questi giustamente chiedono una risposta al comune all'assessore competente alla commissione statuto per cominciare un lavoro da qui alla fine del nostro mandato proprio per dare come dire una risposta corretta al territorio e quindi alla nostra amministrazione comunale questo che penso sia una cosa cui tutti siamo obbligati a fare per cui mi sento di interpretarla e rappresentarla in questo consesso dove ho ribadito che una struttura così anche perché non dobbiamo dimenticare che alla fine della scorsa legislatura dello scorso mandato abbiamo fatto già una riforma nei numeri e nei rappresentanti che riduceva fortemente diciamo i costi infatti i costi oggi si aggirono intorno ai 16 mila euro annui allora rispetto a questo costo rispetto al lavoro che fanno quotidianamente questi consiglieri io penso che sia un errore cancellarle e quindi il nostro impegno a cominciare dal sindaco dell'assessore competente insieme ai presenti dei consigli circunzionali e insieme alla commissione statuto di questo comune sia nostro dovere riformarle cercando di individuare i compiti che penso siano anche semplici perché il loro compito principale è quello di rappresentare le situazioni territoriali che loro rappresentano le situazioni territoriali per cui questo è l'invito e penso che l'emendamento che verrà presentato dal mio capogruppo penso vada in questa direzione grazie grazie consigliere consigliere De Bortoli prego presidente sindaco giunta colleghi consiglieri ho l'impressione che qui questa sera pochi consiglieri pochi vadano nelle stede circunzionali quando sono le associazioni perché non sanno molto bene quello che fanno le circunzioni e dunque io riporto un attimo dopo questa premessa la discussione stiamo parlando in questo consiglio comunale di una mozione presentata marzo 2012 vuol dire due anni fa due anni fa dove si chiedeva di riformare le circoscrizioni da parte di un gruppo misto di questo consiglio comunale perché la collega Giannelli quella volta faceva parte con il sindaco del gruppo misto dunque portiamo le cose nella discussione come vanno portate questa è la mozione che stiamo discutendo stasera dunque non si devono sentire in difficoltà i consiglieri che hanno fatto qualcosa due anni fa e oggi pensano che sono nell'errore perché così non è allora è vero che stiamo vivendo un momento dove si fanno i governi senza mai andare a votare ne hanno fatti già tre alla fascia della democrazia di questo paese alla faccia della democrazia di questo paese è vero che cerchiamo di riformare un senato creando un senatuncolo di compositi personaggi che costeranno anche quelli e vedremo cosa faranno è vero che vogliamo la provincia però poi faremo i consorsi dei comuni anche quelli con dei costi evidentemente è vero anche che abbiamo assessori che non prendevano il gettone del consiglio comunale perché erano assessori ma poi si dimettono per dare un gettone del consigliere comunale giustamente a un altro consigliere che entra alla faccia del risparmio su questo assessori eletti dal popolo si dimettono prendendo una prebenda come assessori facendo entrare un consigliere comunale nuovo il primo dei non eletti che prenderà invece un gettone del consiglio comunale che se questo consiglio comunale venisse considerato come venire stato una volta ha un suo costo annuale il gettone del consiglio comunale ma adesso i consigliere comunale li facciamo a lunga gittata uno ogni mese due mesi non si lavora più come una volta e non vorrei che questa scusa che il collega Gianelli tira che si vada all'assessore ora vado a immaginarmi se tutti i cittadini di Pordenone che il buco e il semaforo e la luce vanno assessori forse questa giunta aumenterà due assessori nuovi che hanno un costo triplicato delle circosizioni su questo allora cerchiamo di capire bene lasciatemi parlare poi parlate voi cerchiamo di capire bene cosa fanno le circoscrizioni anche il consigliere comunale che è entrato questa sera proviene dalle circosizioni allora si potrebbe così praticamente dire che le circosizioni formavano la classe politica di Pordenone perché tutti i cittadini che volevano iniziare a fare per la propria cittadinanza qualcosa impegnandosi nel territorio si candidavano e andavano alle circosizioni anche sottoscritto anche il rossetto nominato nell'83 entrammo nelle circosizioni penso che se siamo qua dopo 20 anni in consiglio comunale forse lo dobbiamo anche a questo 30 anni si siamo formati abbastanza bene visto che otteniamo il consenso in modo continuativo allora non è vero che poi questi fanno tanto il buco le circosizioni sono l'organo più vicino al cittadino l'organo che organizza anche il territorio circosizionale non dimenticatevi che tempo addietro dovevamo assegnare il vigile di quartiere dovevamo assegnare una struttura molto importante forse oggi cari colleghi avremmo anche qualche meno furto meno furti nel territorio perché questa città non è scevra dal fatto che qui si scorazza continuamente e mai impuniti si ruba nelle case ogni fine settimana forse qualcuno non lo l'isola pordenonese felice non c'è e se avessimo forse un vigile di quartiere con consiglieri come abbiamo usciuterebbe meno questo allora questo per dirvi cosa che in fin di conti si parla non di 170.000 euro di costo ma di 18.700 euro riportiamo le cose dove devono stare state già riformate le circosizioni anni fa hanno ridotto i consiglieri le sedi circosizionali signori non sono soltanto dei volumi vuoti magari come i nostri musei no? che abbiamo a Pordenone ne abbiamo tanti a Pordenone siamo una delle città più culturate sul fatto museale d'Italia ormai ma abbiamo delle strutture dove sono biblioteche dove si ricevano i cittadini dove si fa qualcosa ecco perché dico qualcuno forse non va nelle circosizioni a vedere cosa si fa evidentemente non sono dei volumi vuoti dove uno arriva la sera apre un libro e comincia a parlare con altri cittadini no? si fanno delle cose in quei volumi lì importanti per il cittadino e soprattutto è importante anche perché ormai è uno dei pochi organi che viene eletto e votato dai cittadini con nome e cognome alcune volte dunque non dimentichiamolo questo che non è è un esercizio della democrazia importantissimo il consiglio di circoscrizione che noi vogliamo così dire va bene cancelliamo e mandiamo tutti quanti a casa no? invece noi abbiamo dei progetti presentati anche nel 2005 come Forza Italia che mi pare approvati anche dai consiglieri molti consiglieri di circoscrizione attuali che dice che è un bel progetto quello del 2005 dunque perché non cominciamo discutere come dice la mozione nella riforma delle circoscrizioni dove il cittadino esprime il suo desiderio il suo voto per dire io si è candidato un mio mio concitidino io lo mando in circoscrizione perché mi fido di lui che lavora non le associazioni hanno altri compiti perché qua si vuole poi sopperire alle alle circoscrizioni con la la consulta delle associazioni del quartiere vorrei che con questo passo domani potrebbe diventare che sopprimiamo il consiglio comunale perché si potrebbe fare tranquillamente la consulta della situazione della città perché se questo è il metodo non capisco perché per le circoscrizioni deva valere e per il consiglio comunale no anche per il consiglio comunale caro collega un cittadino può andare dall'assessore e dire quali sono le sue aspettative senza passare dal consigliere senza aspettare che il consigliere parli per lui parli per lui in questo consiglio comunale allora non ci siamo con questo discorso qua perché per quel costo che hanno le circoscrizioni in questa in questa città io penso che devono non solo essere tenute ma potenziate perché quando eravamo nelle circoscrizioni noi avevano molta molta considerazione le circoscrizioni anche da parte della giunta partecipavano alla costruzione del bilancio che non era una cosa proprio adesso andate giù magari avete già presentato il bilancio qua adesso andate e non abbiamo i pareri ancora dunque avete presentato il bilancio non abbiamo i pareri una volta si faceva prima la presentazione del bilancio anzi si ricepivano le esigenze del territorio come le circoscrizioni poi si tramutavano nel bilancio con l'assessore competente o gli assessori competenti venivano integrate e portate poi alla discussione dell'aula oltre che presentate la circoscrizione e votate la circoscrizione avevano ecco rappresentanza dei cittadini che aveva un certo valore un certo peso nella partecipazione democratica della gestione della propria città non l'inverso come si fa adesso e vi dico tranquillamente che venivano veramente ascoltati perché questi cittadini che si formavano nel territorio che poi molti arrivano in consiglio comunale avevano un grande impegno e un grande rapporto con i propri cittadini e attenzione sul territorio proprio che portavano delle proposte interessanti alla giunta aiutavano l'amministrazione comunale io penso che tutti quanti ci lodiamo di avere una bella città a Pordenone ma mica è nata soltanto la storia di Pordenone come grande e bella città ha una storia proprio fatta di uomini dell'impegno territoriale di base che sono nella politica ma sono nell'associazione e quant'altro non è che ce la inventiamo è stata costruita negli anni da questi cittadini pordenonesi che hanno lavorato per arrivare a portare la città di Pordenone così bella e io vi dico francamente pensiamo un attimino su questo organo che per il costo che ha tanto può dare evidentemente all'amministrazione comunale soprattutto alla giunta per costruire una città sempre migliore pertanto ci penserei un attimo prima di cassarlo così un momento in cui la gente come qualcuno ha detto non è vero caro collega Giannelli la gente vorrebbe e deve avere il risultato che quando vota un proprio cittadino a coprire le cariche a cui viene destinato questo qua si impegna a lavorare per la gente in modo compiuto è puntuale è puntuale non è non sono risparmi 18.000 euro che risolve i problemi di Pordenone e il problema è che quando si va ad occupare alcuni posti dovrebbe essere impegnati a lavorare per quello a cui ci si pone su questo ma perché noi si e loro no perché noi si e loro no facciamo la consulta delle associazioni e cancelliamo il Consiglio Comunale che costa molto più di più della circostituzione questo è il problema invece no perché qua siamo noi e dobbiamo esercitare come dice come lei ogni tanto cita i grandi architetti allora è bene che lei possa qua esercitare queste citazioni non è vero diamo fiducia a questi nostri cittadini e manteniamo le circostituzioni come sono riformiamole se serve ma sono sicuramente molto importanti per la crescita della città di Pordenone grazie grazie consigliere consigliere Pedicini prego grazie presidente io sinceramente ho avuto già modo di dirlo e lo ripeto questa mozione che a mio avviso non doveva essere presentata come mozione e quindi lo dico al presidente anche del consiglio ma doveva essere al massimo un ordine del giorno un atto di indirizzo volendo perché una mozione anche arrivando a un voto di questa mozione deve essere chiaro a tutto questo consiglio che questa mozione non sposta assolutamente nulla perché primo non si può modificare il nostro statuto attraverso una mozione secondo le circostituzioni che sono organi elettivi di questo comune rimangono in carica fino alla fine della tornata amministrativa e dovrà essere l'amministrazione comunale eventualmente a modificare il proprio statuto il proprio regolamento perché una decisione questo consiglio comunale l'ha già assunta la discussione che oggi si ripropone in modo a mio avviso protestuoso ma non voglio usare aggettivi ulteriori abbiamo già discusso se avere o non avere le circostituzioni in questa amministrazione potevamo tranquillamente decidere di non averle ci sono dei comuni tipo Udine che ha deciso di non averle oggi alla luce dei fatti Udine si rende conto che ha commesso un errore tant'è vero che stanno pensando stanno rivedendo questa situazione perché avevano indicato dei consiglieri come punto di riferimento delle circostituzioni stanno vedendo e stanno organizzando nuove forme di rappresentanza territoriale del comune di Udine allora nella nostra regione Friuli Venezia Giulia le altre capologhi di provincia le hanno mantenute voi sapete che la legge regionale è stata modificata ad hoc dando facoltà alle amministrazioni comunali di decidere se averle o non averle Pordenone ha fatto una scelta di averle questa maggioranza lo voglio ricordare a tutta la maggioranza lo ha inserito nel proprio programma elettorale perché c'era perché abbiamo discusso prima quindi potevate tranquillamente scrivere tutti insieme che non le volevate e quindi una volta anche se le aveva deciso la passata tornata amministrativa potevate scrivere che il vostro sarebbe stato un lavoro per eliminarle in realtà nei vostri programmi elettorali vi prego di andarli a dire come negli indirizzi programmatici di questa amministrazione per tenere unita la maggioranza avete scritto che avevate la massima attenzione verso gli organi di decentramento e li avreste riformati giusto? ma riformati perché? perché questa è una riforma a metà ma a metà non per colpa delle circoscrizioni o per colpa della minoranza perché avendo deciso di riformarle nel numero e nella consistenza da 6 sono passati a 4 da 16 consiglieri sono passati a 10 ed è questo stato provato come riforma dal nostro sistema l'impegno era che immediatamente appena iniziata la tornata amministrativa bisognava convocare la commissione regolamento e rivedere regolamento invece voi avete lasciato le nuove circoscrizioni col vecchio regolamento con le vecchie funzioni questo è l'errore quindi siete venuti meno a un impegno che avevate assunto in campagna elettorale che era quello di riformarle certo che le dovete riformare non abolirle perché l'avete già deciso fermo restando che il consiglio comunale è padrone anche di farlo questo alla fine di questa tornata amministrativa ma parliamoci in modo molto chiaro lo dico a quelli che sono favorevoli o contrari volete lasciare per altri due anni e mezzo le circoscrizioni in questo limbo allora voi che volete fare l'economia gli paghiamo il gettone li lasciamo lì e gli facciamo fare un pseudo associazionismo ci sono già tante di associazioni non c'è bisogno che degli organi elettivi li sminuiamo fino a farli diventare una specie di associazione del territorio a Torre c'è già l'associazione Il Castello a Villanova c'è l'altra associazione della festa in piazza ci sono già tutte le associazioni che lavorano sul territorio del quartiere non abbiamo bisogno di inventarci delle circoscrizioni elette per poter poi andare a fare le stesse identiche cose assessore non c'è bisogno devono aiutarci a svolgere meglio le funzioni amministrative perché il regolamento di riforma l'abbiamo presentato nel 2000 ben 14 anni fa non ieri dove davamo perché venivamo ben ultimi dopo tante altre amministrazioni che avendo deciso di avere le circoscrizioni hanno deciso in modo molto chiaro che funzioni assegnare a queste circoscrizioni perché è tutto lì allora decidete volete giocare sull'ordine del giorno che viene presentato questa sera o volete per i prossimi due anni e mezzo che tanto non le potete abolire e neanche col voto di questa sera le lasciate ancora nel limbo allora non è forse meglio che quell'ordine del giorno che viene presentato quella modifica dice che domani mattina impegniamo il presidente del consiglio a convocare la commissione regolamento e finalmente gli diamo una funzione seria seria col fatto che abbiamo deciso che questa amministrazione ha deciso che funziona ne ci sono allora diamogli delle competenze precise perché se no siamo noi a sprecare il denaro pubblico perché se le lasciamo lì per i prossimi due anni e mezzo col vecchio regolamento stiamo buttando i soldi dalla finestra e poi gli facciamo giocare gli facciamo fare pseudo associazionismo non è quello che devono fare allora questo consiglio comunale che si diletta stasera con questa mozione e con gli emendamenti è in grado di affrontare la cosa una volta per tutte e dire bene magari fra due anni e mezzo decideremo di abolirle se tutti siamo d'accordo ma in questi due anni e mezzo vogliamo farli lavorare seriamente vogliamo dargli delle funzioni serie visto che ce le abbiamo o vogliamo far finta di niente giochiamo stasera e da domani mattina tutto torna come prima il presidente del consiglio convochi la commissione regolamento chi ha delle idee le porti avanti decida cosa gli vuol far fare assessore Mazzar perché lei è inadempiente mi permetta con tutto il bene che le voglio è inadempiente perché avrebbe già dovuto convocare la commissione la commissione regolamento lei si doveva far carico lei l'assessore Zille che le è vicino ne ha ricevute di proposte e di modifiche le ha ricevute se le ha chieste e gliele abbiamo presentate quando era lui assessore che fine hanno fatto già sono nei cassetti di questa amministrazione come di quella precedente allora tiratele fuori dal cassetto partate allo studio queste proposte troviamoci in commissione regolamento e finalmente decidiamo cosa vogliamo fargli fare nei prossimi due anni e mezzo perché la cosa più assurda del mondo che stasera vi lavate tutti la coscienza dicendo vabbè io ero contrario io ero favorevole ma tutto rimane come prima questo non lo possiamo permettere allora io ve lo dico molto chiaramente come l'ho detto anche già la circoscrizione se questa sera non viene fuori l'invito al presidente del consiglio di convocare la commissione regolamento su questo tema io raccolgo le firme ne bastano ben quattro e chiediamo la convocazione della commissione regolamento e chiedo di mettere all'ordine al giorno la riforma delle circoscrizioni allora lì ci confrontiamo abbiate il coraggio di farla poi fra due anni e mezzo tre anni quando finisce questa amministrazione il consiglio comunale deciderà se rinnovarle o meno allora quello sarà il momento in cui deciderete se portarle a nuove elezioni oppure no ma quella è una decisione di dopo oggi la decisione è se farle funzionare o meno ecco su questo vi prego di essere precisi perché lo statuto dell'amministrazione comunale che tutti lo dimenticate le prevede il regolamento le prevede e ne prevede le funzioni potete modificare lo statuto con la delibera di questa sera? no non lo potete fare allora di cosa stiamo parlando? capite che ha ragione il consigliere del ben prima dice volete affrontare cosa stasera? modifichiamo lo statuto? siete convinti che stasera votando quell'emendamento avete risolto il problema? avete risolto niente ma sì ma non serve niente la mozione la mozione è inutile è come se un emendamento su una mozione è inutile è inutile anche l'emendamento allora non è quello il problema il fondo rimane che è inutile perché tanto domani mattina è tutto come prima però facciamo finta che non sia vero questo non va bene il vero succo vi invito veramente guardate non fatemi citare Renzi stasera per cortesia ecco se no diventa la seconda volta ho apprezzato molto di più la chiarezza di Renzi nel dire determinate cose di altri che fanno finta per non affrontare determinati problemi non mi interessa se nella maggioranza siete favorevoli o contrari anche nell'opposizione ci sono i favorevoli o i contrari cosa cambia? l'altra volta il voto del consiglio comunale è stato trasversale hanno votato i consiglieri liberamente anche già l'altra volta e hanno deciso di tenerle e la prossima volta vedrete che il consiglio probabilmente deciderà ancora una volta di tenerle perché esisterà una maggioranza che le fa tenere allora però visto che le terremo anche la prossima volta io immagino perché faccio così una piccola previsione non voglio arrivare per altri due anni e mezzo lo ripeto per l'ennesima volta nello stesso limbo in cui stiamo vivendo oggi è delittuoso amministrativamente parlando averle mantenute nel limbo per due anni e mezzo quasi tre anni questo è sbagliato hanno ragione le circoscrizioni che si lamentano dice oh ci continuate a far star qua senza sapere esattamente quello che dobbiamo fare o quello che possiamo fare ci si devono inventare io ho sentito bellissime cose ma sono degne dell'associazione non di una circoscrizione possono fornire dei servizi ai cittadini decentrati dal comune che non è mica sbagliato possono svolgere tutta una serie di funzioni ben precise bene si riunisca la commissione e le decida ecco allora sostanzialmente invito i consiglieri di maggioranza a se è possibile a integrare quell'ordine del giorno che in parte è condivisibile a integrarlo con l'impegno dato al presidente del consiglio perché convochi la commissione regolamento e si proceda in tempi brevi alla modifica del regolamento delle circoscrizioni per assegnargli funzioni e compiti che gli permettano di finire questi due anni e mezzo che tanto non li possiamo eliminare e tanto non le possiamo chiudere tanto non le possiamo sospendere ma gli permettiamo in questi due anni e mezzo di svolgere il loro lavoro e di guadagnarsi quella miseria dei 16.000 euro che oggi che valgono meno di un assessore perché è la metà molto meno ho finito la metà di quello ho finito la metà di quello che guadagna un assessore per e con quattro circoscrizioni presenti i quattro raggruppamenti di quartieri che possono svolgere una funzione sicuramente utile per l'intera amministrazione comunale grazie grazie consigliere consigliere Daniello prego sì buonasera grazie mi sto un po' preoccupando parlavo prima con il consigliere Pasut ma sono quasi totalmente d'accordo con quello che ha detto Pedicini probabilmente il cambio oppure la stretta di mano di prima Pedicini voglio partire con recitare una frase che c'è nel programma politico sottoscritto da tutte le forze politiche che governano la città frase di Italo Calvino voluta e sottoscritta dal sindaco di una città non godi di 7 o 77 meraviglie ma delle risposte che dà alla tua domanda oggi come si vedrà il consiglio è spaccato tra chi vuole mantenere le circoscrizioni e coloro che le vogliono chiudere il consiglio di Ragonia vice direttore del messaggero è quello di navigare tra i social network per reperire cosa il cittadino chieda cosa chiedono i cittadini oggi i cittadini chiedono che in questo momento sfasato per economia cultura politica il senso di responsabilità alla classe politica e dia che dia risposte concrete quello che speranza capogruppo PD alla Camera chiama democrazia decisionale personalmente aggiungo capacità di scelte condivise la risposta concreta deve essere politicamente valida e lo è se di largo respiro e ha capacità di guardare oltre non voglio entrare nel merito dei costi perché non voglio essere né ipocrita né cinica quindi salto volutamente il costo perché non la ritengo una spesa ma se ben usata una risorsa su cui contare il programma politico dovrebbe essere il filo conduttore dell'amministrazione signor sindaco e questo recita anche cercando di intercettare una crescente domanda di partecipazione che non vuole essere circoscritta solo al momento del voto intendiamo il programma come un percorso non un percorso a termine ma un continuo ed incessante lavoro che dovrà accompagnare ogni momento in cui si svolge la vita pubblica della città ciò sarà possibile se sapremo aggiornare creare diffondere quelle pratiche di governo e di partecipazione che permettano ai cittadini di avere un impatto sulle decisioni collettive di assumersi responsabilità sociali di percepire che i problemi e le esigenze private non possono trovare soluzioni più soddisfacenti se generano risposte di comunità in quest'ottica si vuole reinterpretare e far evolvere le circoscrizioni Paolo VI in un'enciclica scrive gli uomini e le famiglie e i diversi gruppi che formano la comunità civile sono consapevoli di non essere in grado da soli di costruire una vita capace di rispondere pienamente alle esigenze della natura umana e avvertono la necessità di una comunità più ampia nella quale tutti recchino quotidianamente il contributo delle proprie capacità allo scopo di raggiungere sempre meglio il bene comune per questo essi devono costituire secondo vari tipi istituzionali una comunità politica operosa ed operante ma poi se leggiamo il professore Allegretti un costituzionalista e professore di diritto costituzionale fiorentino e oggi mi pare che Firenze vada di moda descrive bene ciò che potremo coniugare anche noi nel nostro contesto cittadino sperando di intraprendere la via dell'approssimazione non certo della precisione assoluta con una soluzione che faccia contenti gli uni e gli altri io non sono per la cancellazione delle circoscrizioni e sono per la elettività delle circoscrizioni si potrebbe ripensare le circoscrizioni con una nuova veste che sta nella mediazione civile tra livello istituzionale e cittadini responsabili il che significa mettere in moto una macchina di interazione e di interfaccia tra società ed istituzione questa mediazione comporta e prevede delle procedure in cui vi sia il riconoscimento dell'apporto dei cittadini a certe decisioni e il mettersi in gioco da parte dell'amministrazione chiaramente con questo processo dialogico presuppone una fiducia e sulla reale partecipazione dei cittadini che responsabilmente non declinano il dover di scegliere e sull'amministrazione che promuove il coinvolgimento la democrazia partecipativa è un concetto amplificativo del concetto di democrazia e si manifesta come interazione tra società e istituzione senza sovrapposizione di compiti e funzioni ridisegnare il ruolo e la funzione della circoscrizione concepita come un complesso ed articolato modulo e nodulo di partecipazione territoriale collegata a livello istituzionale con il momento elettivo espressione di esigenze sociali portate avanti anche da associazioni di categoria sindacati associazioni di rappresentanza anche quelli non titolari di formale cittadinanza è prendersi la responsabilità di una scelta se non originale strategica per la città del domani basterebbe tenere fede e credere al programma sottoscritto grazie grazie consigliere consigliere Bianchini prego grazie presidente sindaco assessori consiglieri leggerò non tanto per citare qualcuno ma perché sono un po' stanco stasera anche perché citerò il fiume ormai negli ultimi 13 anni la posizione nostra è chiara ormai da 13 anni ma ci tocca ribadirla perché non si sa mai che qualcuno magari la possa confondere noi pensiamo che noi rappresentanti dei cittadini abbiamo il compito oltre ad amministrare di dare input per migliorare la qualità di vita dei nostri concittadini di solito utilizziamo molti argomenti per riportare e spiegare la nostra idea nel caso della questione cancellazione o meno delle circoscrizioni non abbiamo bisogno di cercare il modo migliore per riportare le nostre convenzioni a supporto di tale tema perché i cittadini di Pordenone hanno già colto come la rappresentanza segua oggi canali diversi e vi sia una forte richiesta di semplificazione attenzione non stiamo dicendo che i parlamentini di quartiere così chiamati le circoscrizioni quindi questo organo istituzionale democratico non sia stato significativo nelle decisioni della comunità in passato ma oggi non se ne fa più uso come in origine perché si preferisce dialogare direttamente con i consiglieri comunali con gli assessori e col sindaco stesso cosa che come diceva prima l'assessore una volta il consigliere di circoscrizione serviva per accompagnare le decisioni per passarle per spiegarle oggi grazie anche alla informatizzazione dell'informazione questo viene a cadere e i cittadini di Pordenone lo stanno già facendo basta collegarsi più volte basta collegarsi al sito del comune sotto l'acronimo SOL ed è facile comunicare con l'amministrazione e chiedere specificatamente una data richiesta piuttosto che una domanda anche generica o prendere appuntamento con sindaco assessore e credo che come avviene per i consiglieri del fiume credo che avvenga con tutti i consiglieri qui seduti in consiglio comunale noi riceviamo spesso se non sempre richieste da parte del cittadino che poi riportiamo in questa assise e quindi l'idea è che coloro che oggi fanno parte dei consigli di circoscrizione anzi noi spichiamo che prendono il nostro posto qui in consiglio comunale quindi se consideriamo la richiesta quindi se consideriamo la manifesta disaffezione dei pordenonesi ai parlamentini di quartiere e l'opportunità concreta di avere risposte immediate grazie allo stretto contatto tra cittadino e sindaco cittadino e assessore cittadino e consigliere non possiamo che non essere tenuti a rettificare quello che già di fatto i cittadini di Pordenone hanno deciso e cioè abolire le circoscrizioni e noi come fiume non parteciperemo ad alcun tavolo di lavoro per modificare in altro modo le circoscrizioni anche in futuro è ovvio che quello che io qui sto dicendo è scontato per tutti però volevo ribadirlo perché molte volte si pensa che il nostro silenzio in un argomento piuttosto che un altro in questo caso sul tema di circoscrizioni poteva essere visto come per questa volta lasciamo passare no noi lo abbiamo detto da 13 anni questa è la nostra decisione e così andremo avanti grazie grazie consigliere consigliere ribetti prego grazie presidente beh voglio iniziare con una battuta allora direi direi che il consigliere Bianchini e tutto il suo gruppo per 13 anni sono stati all'opposizione in quanto hanno amministrato questa città mi sembra non abbiano fatto nulla per le circoscrizioni non mi sono ma mi sembra strano comunque no no infatti mai partecipato ma non avevate neanche gli strumenti per fare nulla avete avuto 10 anni di sindaco di sindaco Bolzonello e avete firmato un programma elettorale in cui si prevede circoscrizioni evidentemente forse forse direi presidente forse ma perché non lasciatelo lasciatelo intervenire non capisco perché dovete fare questi commenti poi chi non è intervenuto può intervenire successivamente mi ero solo perso prego scusi consigliere ero convinto forse di essermi perso qualcosa le discorse tornate amministrative ma il discorso sulle circoscrizioni si presenta particolarmente complesso e al tempo stesso a mio modo di vedere è particolarmente semplice perché l'ha ricordato benissimo prima il collega Giuseppe Pedicini le circoscrizioni sono un argomento di cui abbiamo già parlato abbiamo già parlato sono state già valutate io credo che tutti quanti almeno quelli che erano presenti quella volta al dibattito abbiamo condiviso la necessità la necessità di rivedere il ruolo e il concreto operare delle circoscrizioni però tutti quanti o almeno la maggior parte abbiamo concluso per la necessità di questo di questo anello di questa catena che è la catena poi più vicina l'anello più vicino al cittadino ai nostri concittadini quindi io credo che dovremmo fare tesoro e partire proprio dal discorso dal dibattito che si era sviluppato quando l'abbiamo affrontato nella scorsa tornata amministrativa le circoscrizioni ci sono le circoscrizioni sono importanti le circoscrizioni però così come sono non servono almeno a mio modo di vedere non servono a molto e allora è giusto metterci mano con serietà quindi anche qui mi tocca mi tocca richiamare con meno preoccupazione della collega Sonia però mi tocca richiamare quanto ha detto Giuseppe Pedicini l'invito all'amministrazione perché siete voi che dovete lanciare e iniziare poi ci vuole il lavoro di tutti e ci vuole il contributo di tutti però è l'amministrazione che deve farsi a mio modo di vedere parte diligente nella persona dell'assessore delegato anche del sindaco però per affrontare la questione non credo che sia che possa essere il motivo di cancellazione della circoscrizione quello che ho sentito da qualche parte non so mi riferisco a un problema di costi io adesso non voglio non voglio ripercorrere la cronistoria come c'è scritta sul nostro sito però io credo che facciano più male ai nostri concittadini e soprattutto a quelli che magari sono in difficoltà vedere uno spreco di denaro in altre forme qualcuno l'ha già ricordato prima vedere assessori abbiamo un insieme di assessori di cui ce ne fosse uno nominato eletto sono tutti nominati chiedo scusa anche quelli che erano stati eletti lasciano spazio agli altri ce ne sono credo che faccia male ai nostri concittadini vedere scene patetiche come quelle che sono successe che andremo a discutere sulla prossima mozione quando si parlerà del consiglio del rinnovo delle cariche in fiera quelli sono i costi quelli sono i costi che forse i nostri concittadini non vorrebbero vedere non credo i 16 mila euro che ci costano le circoscrizioni dopo che ci abbiamo già messo in mano credo che i nostri concittadini forse faccia più male l'atteggiamento ipocrita di chi adesso si scaglia contro la riduzione dei consiglieri però ho fatto le barricate per non ridurre a due il numero degli assessori ecco sono tanti sono tanti passaggi che forse un'amministrazione seria dovrebbe valutare e non nascondere la questione delle circoscrizioni dietro un mero calcolo opportunistico di costi io credo e ne sono convinto che la questione delle circoscrizioni poi non possa essere devoluta a un referendum so che c'è un'altra mozione forse presentata sempre dal gruppo di Forza Italia che chiede un referendum credo che quello sarebbe forse un cedere il passo se da una parte potrebbe essere vista come un strumento di democrazia lo chiediamo ai cittadini d'altra parte non ritengo che sia un argomento talmente importante talmente importante e prego di valutare bene questa parola talmente importante da cedere per la quale cedere la parola ai cittadini stiamo parlando di uno strumento di democrazia ripeto democrazia che deve essere garantita garantita ai massimi livelli le circoscrizioni servono lo ripeto e vado a concludere perché voglio essere nonostante in conferenza capigruppo avessi detto che invece voglio chiudere i tempi nonostante ripeto sono uno strumento abbiamo da vedere imprescindibile sono anello più vicino alla catena però così come sono non servono molto allora diamo diamo veramente effettività a quello che abbiamo deciso investiamo le circoscrizioni come ci chiedono gli stessi consiglieri diamogli delle chiamiamole materie facciamo sì che il loro voto il loro parere sia effettivo e possa influire perché ci vengono a dire quello che vogliono i cittadini ecco io ritengo che in questo senso debba essere l'amministrazione debba farsi parte di Vicente e debba cercare di mettersi tutti attorno a tavolo per dare effettività al ruolo delle circoscrizioni grazie grazie consigliere consigliere Dalmas prego ma devo dire che l'intervento che mi ha colpito è stato quello dell'assessore mi ha colpito negativamente non me ne voglia io non è che la giudichi quale persona inadempiente non ho le cognizioni per poterlo fare credo che lei sia una persona che lavora quindi probabilmente anche adempiente ma mi ha sorpreso forse per la brevità del suo intervento il carattere un po' sommario del giudizio che è stato dato sull'andamento delle commissioni scusate delle circoscrizioni non mi è piaciuto lo devo dire anche al mio amico capogruppo il modo in cui ha esposto la questione della mozione che egli presentò tempo fa in quanto espressione del gruppo misto io non so non so quale sia la cosa giusta francamente devo dirlo conosco poco non me ne voglia non so che qui ci sono degli amici delle circoscrizioni conosco poco il lavoro delle circoscrizioni e questo non significa che le circoscrizioni non lavorino però leggo lo statuto del comune che dice determinate cose che è la nostra carta costituzionale che assegna addirittura oltre che individuare nelle circoscrizioni organi del decentramento sono funzioni decentrate amministrative e anche nel decentramento di alcuni servizi non so quali in concreto essi siano probabilmente non ce ne sarà nessuno probabilmente ecco mi sarei aspettato che l'assessore oggi avesse un monitoraggio di ciò che dice lo statuto ciò che è la realtà ma questo l'avete detto perché dite oggi il rapporto è diretto con internet attraverso una forma di comunicazione che passa dal cittadino attraverso le tecnologie benvengano direttamente all'amministrazione quindi non c'è bisogno sostanzialmente i quartieri che io concepisco tutti li abbiamo concepiti come i luoghi dove si raccoglievano determinate istanze oggi non servono più perché fortunatamente la tecnologia ha semplificato in modo fantastico queste cose quindi anzi c'è questo rapporto diretto tra rappresentante e rappresentato oggi si sa tutto di tutti in tempo reale faccio una domanda in comune so chi è il responsabile dell'istruttore so tutto quindi sono anche dei passi avanti che non solo la legislazione ha fatto ma che anche la nostra burocrazia nel tempo è riuscita a concepire nell'interesse del cittadino e qui viene meno la parte benevola perché io mi aspetterei da oggi un segnale da parte sua sindaco perché so che lei ultimamente in questo periodo ha prestato molta attenzione io ho seguito i suoi interventi sulla stampa più che in consiglio comunale perché non c'era evidentemente l'occasione però ho visto che ha dato grande attenzione a come ridurre i costi della giunta come semplificare determinate cose visto che insomma per una settimana intera sulla stampa ci avete detto che lo stipendio dell'assessore comunale era ridotto di 100 euro 150 euro e voglio dire e quindi si è impegnato su questo poca cosa ma ha fatto io personalmente ritengo che insomma non siano quelle le cose che danno il senso vero cioè che cambiano un segnale a volte bisogna dare un segnale quindi oggi Giannelli sente di dare un segnale e dice togliamo le circoscrizioni però tra quanto dice Giannelli e quanto invece proponete voi con la dico voi quanto maggioranza con l'emendamento alla mozione di Giannelli praticamente stravolgete completamente il senso della mozione che aveva presentato il buon Giannelli Giannelli dice togliamo le circoscrizioni e il suo giudizio le togliamo oggi come oggi è difficile dire che non si può fare cioè non si possono togliere le circoscrizioni oggi Renzi è andato in senato e ha detto io voglio la vostra fiducia ma sappiate che non vi voglio più vedere in faccia perché il senato lo devo togliere e allora qui si continua a dire che il senato si toglierà in Italia nonostante la celebrazione delle magnifiche sorti progressive della nostra storia patria come aveva detto all'inizio del suo intervento il neopresidente del consiglio però guardate bisogna cambiare e quindi ci sarà se ci sarà un non più bicameralismo ma una sorta di legislazione differenziata forse un senato composto dalle autonomie locali senza oneri per lo stato grazie tante perché saranno oneri a carico delle amministrazioni locali allora lei si immagina un domani noi dovremmo votare o anzi il governatore Seracchiani andrà al senato perché in quanto governatore di regione così il sindaco del capoluogo di regione la nostra regione legge sette senatori per norma costituzionale e avrà comunque sicuramente due che saranno senatori a fare che cosa non si sa si immagina e si ipotizza che sia un modello simile a quello che esiste tra Bundestag e Bundestag in Germania anche lì ma insomma è dato a noi poveri mortali di capire che cosa sta succedendo realmente a Roma no è dato però di comprendere una cosa di cui poco si parla però invece c'è una c'è una sorta di furia iconoclasta nei confronti delle circoscrizioni circoscrizioni comunali dove ci sono i poveretti che vanno la sera e si rompono le scatole scusate mi termina un uffemismo per affrontare qualcosa che magari interessa realmente la vita di quel quartiere e scopro che tutto questo gran discutere sulle circoscrizioni costa esattamente 16.000 euro l'anno cioè noi stiamo parlando da ore stiamo parlando da ore di 16.000 euro l'anno e così avremo risolto il problema della dato un segnale ai cittadini Franco volevi dare un segnale ai cittadini quale miglior occasione togliamo le circoscrizioni questo è il senso no incominciamo dalle circoscrizioni quindi le togliamo oggi passa sotto silenzio il fatto che l'assessore Zille si dimetta per far entrare un consigliere comunale in più e nessuno dice niente non è che il consigliere comunale composte chissà quali costi chissà quali costi chissà quali costi allora è come la riforma che si sta ipotizzando delle province mi dicono fantastica sparisce la provincia di Pordenone su questo vabbè possiamo anche discutere no ma che cosa si provvede al riguardo mi pare che la costruzione del sistema ordinamentale ipotizzato anzi mi consenta divisato e alquanto straordinaria cioè non solo avremo altro che super sindaco avremo un altro presidente di provincia non elettivo con altri due organi a fianco cioè allora qui è vero che l'Italia nella fantasia costituzionale nelle leggi elettorali ha una capacità straordinaria di inventarsi sempre qualcosa ma mi pare che il tema decidentum sia poco e non è perché poco allora togliamo le circoscrizioni perché domani mattina soprattutto a voi della sinistra che siete così attenti all'integrazione alla sensibilità nel linguaggio persino le metafore le usate in termini che volete centrare per non offendere nessuno perché questo è il vostro sistema e domani di semplificazione in semplificazione arriviamo alla totale desertificazione qui vedete oggi è arrivata la commissione lavoro della camera in città e lei il sindaco gli ha detto ma scusate ma cosa immaginate alla fine abbiamo capito che questi sono venuti a farsi un giro hanno fatto una gita da Roma per venire a Pordenone e qual è il risultato di quello non è colpa sua il sindaco lei si è dato a fare però questo è il senso delle nostre istituzioni questo è il senso di come lavora lo Stato italiano abbiamo bisogno di una commissione che si sposta per scoprire che esiste il problema dell'elettrolux ma quante interrogazioni ci sono al Parlamento che sono lì non ricevono risposta perché si succedono sistematicamente i ministri ecco Presidente arrivo alla chiusura quindi tutto è relativo non solo da Einstein in poi ma anche è relativo il nostro dibattito perché se anche votassimo oggi come probabilmente la maggioranza deciderà di fare di emendare la proposta a Zanelli votando un'altra cosa rispetto a quella che propone Zanelli quindi Zanelli oggi dovrebbe ritirare la sua mozione dovrebbe ritirarla perché quello che proponete voi non ha nulla a che fare con quello che dice lui sul quale potrei essere assolutamente d'accordo concluda consigliere concludo io invito il sindaco a prendere posizione su questo perché voglio aprire il credito su una questione più importante che non è solo la circoscrizione evidentemente è il sistema amministrazione comunale e il sistema città che lei ci ha fatto immaginare in questo periodo dove si parla di una capoluogo di una città capoluogo deve concludere siamo già oltre allora su questo credo mi consenta un attimo signor presidente consiglio credo credo che la cosa più saggia sia quella di ritirare di ritirare chiudo invito il consigliere Zanelli a ritirare la mozione sicuramente per una ragione molto semplice ce ne sono altre due pendenti sullo stesso argomento e per una ragione altrettanto semplice che voi dovete dire che cosa volete perché spetta la maggioranza indicare la linea e non travisare il senso mortificare il senso della mozione libera pensata e immaginata da un consigliere comunale che è di opposizione grazie consigliere consigliere salvador prego grazie presidente dopo le digressioni di di franco dal mass cercherò di restare negli 5 minuti patuiti in conferenza capigruppo ora come giustamente ha fatto notare il mio capogruppo Mario Bianchini recupero come nel calcio come giustamente faceva notare il mio capogruppo Mario Bianchini sono la posizione del fiume ormai nota da parecchi anni le circoscrizioni la ribadiamo la circoscrizione per come sono istituita e pensata in questo momento sono sono superate non è la questione di costi non sono sicuramente i costi 16.000 euro dei costi della circoscrizione che bloccano il bilancio comunale del comune di Pordenone e neppure chiaramente l'efficienza delle persone che ci lavorano che ricordo giustamente come molti hanno fatto notare che sono stati votati però non possiamo non dirci quello che è evidente ovvero che lo strumento delle circoscrizioni è superato sulla base proprio delle esigenze per il quale era stato pensato ovvero dare voce e rappresentanza al territorio comunale e cittadino ora le città per come noi le vediamo dalla popolazione sono sempre di più pensate e deputate della cittadinanza come luogo nel quale vivere la quotidianità il sindaco e lo vediamo anche nell'attivismo che lei ha e apprezziamo nei confronti del caso Electrolux è la persona l'istituzione che è referente primario e principale della cittadinanza il sindaco però in qualche maniera negli ultimi anni a causa della crisi politica e economica è quello che ha segnato di più il passo all'istituzione del sindaco a per noi il sindaco la figura del sindaco va valorizzato come lo si valorizza dandogli una possibilità di rappresentare il proprio territorio in modo molto più concreto e forte in in quei tavoli nei quali si prendono quelle scelte che poi possono decidere il futuro delle città questo è il valore strategico che ci preme come lista civica in questi giorni assessore Toffolo stiamo discutendo stiamo guardando stiamo verificando tutti i processi che porteranno speriamo al piano regolatore tutte le analisi che sovrassiedono a questo ci hanno detto che la città la comunità la città anzi non la comunità la città è divisa lo si vede urbanisticamente lo si vede invece a livello socio-economico che è molto unita la comunità pensa a questo territorio urbano vasto come se fosse un unico organo lo vive come un unico organo la politica invece in questo mi pare porti un forte ritardo un forte ritardo negli servizi un forte ritardo nell'amministrazione e qui torniamo appunto alle esigenze per le quali erano pensate le circoscrizioni ovvero dare voce e rappresentanza a un territorio è cambiato il territorio al quale noi dobbiamo dare voce e rappresentanza e a questo punto parlare di circoscrizioni per noi risulta quanto meno anacronistico per la lista per la lista civica il fiume il punto programmatico centrale di ogni ragionamento politico sulla città qualsiasi ragionamento politico sulla città è quello di primo rendere omogeneo questo territorio secondo è di valorizzare tutte le identità e le municipalità all'interno di questo territorio e questo mi onoro di parlare per la maggioranza perché l'intento della nostra maggioranza è quello ci siamo parlati in questi giorni di presentare nei prossimi consigli comunali un ordine del giorno quindi noi come lista civica il fiume la lista civica vivo Pordenone e il partito democratico un ordine del giorno nel quale si chiede al sindaco di impegnarsi a organizzare dei tavoli un percorso nei quali con gli altri sindaci del territorio urbano Pordenonese quindi i sindaci di Porcia Cordenos Roveredo Impiano e Sanquirino di organizzare un percorso che ci porti sì a condividere i servizi a migliorare i servizi a ridurre i costi ma di trovare anche una visione programmatica che ci consenta di organizzare la città nel prossimo futuro è chiaro che per noi i protagonisti di questo processo sono i sindaci nessuna lista civica nessun partito sono i sindaci i quali primo sono quelli che rappresentano le identità all'interno del territorio secondo rappresentano tutte le forze politiche all'interno dei consigli comunali ed è per questo che noi come maggioranza si proporremo l'ordine del giorno ma chiediamo a tutta questa assemblea di condividerlo perché più siamo più forte è l'indirizzo che noi daremo al nostro sindaco che ricordiamo non è solo l'espressione della maggioranza ma rappresenta la città intera grazie grazie consigliere consigliere Piccin prego sì grazie presidente ma è passato poco tempo da quando abbiamo parlato in questo consiglio comunale di questo di questo argomento e sinceramente come ha detto già qualcuno prima di me questo consiglio comunale si era già espresso non mi ricordo bene se per uno o due voti allora si arrivò alla decisione del mantenimento delle circoscrizioni che dico subito per coerenza e continuità rispetto a ciò che ho sempre detto e per ciò che ho votato in questo consiglio comunale e anche in consiglio regionale perché ricordiamo insomma abbiamo a seguito della nostra autonomia della nostra competenza legislativa in materia deciso come regione di Friuli Venezia e Giulia di mantenere le circoscrizioni allora perdon sì ok va bene allora fermo restando che mi allineo rispetto come dicevo ai ragionamenti che ho già fatto in passato non credo di dover aggiungere molte cose al dibattito che è stato già fatto da una parte e dall'altra e dico semplicemente una cosa perché questo mi sento di dirlo è antipatico quando si parla di abolizione delle circoscrizioni fare riferimento al lavoro che le persone fanno all'interno di questo perché credo che chiunque si impegni a qualunque livello a cominciare dai nonni vigile che sono importantissimi coloro che accompagnano i bambini con il pedibus e così via fanno un lavoro importantissimo fino ad arrivare a coloro che decidono di candidarsi in questo caso per le circoscrizioni per portare avanti gli interessi o comunque voglio dire le difficoltà che ci sono a livello locale ai consiglieri comunali e così via questa furia iconoclasta che sta prendendo dentro tutti quanti noi da tutte le parti politiche di taglio razionalizzazione mi trova solo in parte d'accordo però voglio dire in questo ambito in una città e poi vengo al ragionamento generale che sulla diciamo sulla grande città che faceva prima e che è già stato fatto in questo consiglio comunale il collega Salvador dicevo che io ritengo così come ho sempre ritenuto che i 40 consiglieri comunali che siedono qui dentro siano sufficienti per poter portare avanti le esigenze le istanze sul territorio se sul territorio vivono se domani o dopo domani riusciremo a fare o si vorrà fare la città dei 90.000 allora forse o dei 100.000 non so di quanti sarà allora forse magari un ragionamento diverso dovrebbe essere fatto anche in materia di circoscrizioni chiamatele come volete non lo so siccome io credo poco al fatto che si riesca ad arrivare ad un unico agglomerato di tutti questi comuni credo che in questa battuta e per quanto riguarda la mozione che è stata presentata dal collega Giannelli noi insomma voteremo voteremo contro è evidente che si voteremo a favore volevo dire è evidente che queste rimarranno così come sono il fatto di votare o non votare questa mozione questa sera non cambia guardate assolutamente niente esiste una legge regionale che l'ha prevista ci sono state regolari elezioni per farle abbiamo cambiato il regolamento relativo abbiamo fatto tutto quello che c'era da fare per cui tanto ci sono e tanto rimarranno non so se a livello regionale la maggioranza vorrà decidere di sopprimere quella legge che aveva fatto la maggioranza precedente che io comunque non avevo votato non so sinceramente credo che l'attenzione nel momento in cui si è concentrata su quella meravigliosa riforma che è stata fatta in materia di province anche lì sarebbe troppo lungo entrare nel dettaglio credo che avrebbe valso la pena fare un ragionamento generale sull'intero sistema enti locali circoscrizioni comprese credo che questo avrebbe avuto un senso e non soffermarsi ad una legge in mio modesto parere è una legge spot che blocchi in qualche modo e con tutti i mezzi il rinnovo della provincia di Pordenone questo non l'ho trovato giusto non l'ho trovato corretto e quindi beh ma non importa se nessuno ascolta sono tutti stanchi ed è giusto no no ma lo so che l'assessore sta ascoltando e lo ringrazio per questo perché sarà stanco anche lui di ascoltare quindi riassumendo dico che quello che ho già detto cioè è antipatico parlare del lavoro delle persone perché il lavoro delle persone sicuramente va elogiato ma ripeto ribadisco la contrarietà al mantenimento delle circoscrizioni per quello che può valere questa sera la posizione in consiglio comunale grazie grazie consigliere Piccinato prego posso parlare no c'è un'ottima dopo di questa io vado via scusi sì motivo dell'intervento scusi mozione d'ordine mozione d'ordine va bene prego potete dare la parola scusi consigliere Piccinato presidente una volta tanto il consiglio comunale serve per far maturare o non maturare una questione la mia mozione che era chiara cari chiarissima esplicita prima di continuare voglio dire che io ho un enorme rispetto di quelli che esercitano hanno esercitato nelle circoscrizioni enorme brava gente eccetera comunque io in questo momento ritiro la mia mozione perché l'operazione che stava per essere fatta l'avrebbe completamente stravolta io ho chiesto una cosa può darsi può darsi io la ritiro e voglio anche dire che non si trattava di 19.000 euro e voglio anche dire signori cari che fossero stati anche 1.000 euro mal spesi a chi non riesce ad arrivare a fine del mese tuona comunque male che va che mi sta riuscita Grazie a tutti. Scusate signori, sospendo un attimo, devo consultarmi con il segretario per vedere. Il consiglio non è terminato ovviamente. Grazie a tutti. 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 a tutti.